Salve a tutti, come state? Buonasera, tu di lì, non ci ricaventiamo. Buonasera mondo. Vi ricordate di noi ancora? Siamo ancora di noi. Ma io un po' fare le live sulla trecentesima volta, sul trecentesimo video di Dave, proprio non ce la faccio fisicamente e psicologicamente, e oltretutto c'è un casino di cose da fare. Nella mia vita quotidiana, quindi perdonate se non facciamo live tutte le settimane, ma ci sta, insomma. Dai, che forse ricomincia il dentista, forse avremo un nuovo materiale. C'è una legittima difesa, c'è il nostro odontoiatra di fiducia che si sta attrezzando per farci vedere il Monte Bianco dalla Sicilia. Sì, si improvvisa un po' l'astrofilo, l'astronomo. Sì, sì, c'è un upgrade di hardware, a quanto pare, vedremo, vedremo. Stay tuned, come dicono. Stay tuned. Allora, che è successo nel frattempo nel mondo dall'ultima live? A parte sonde mandate sulla Luna che si sono accasciate sul lato. Dopo se volete, sulla Luna se volete si fa un giochetto, dopo si fa un intermezzino a due minuti, ho preparato una cosina simpatica. Però bisogna dire che comunque un'altra compagnia privata è riuscita a appoggiare piede sulla Luna, quindi bene, voglio dire. Ovviamente hanno fatto questo modulo un po' poco equilibrato, diciamo. Hanno avuto anche un po' sfortuna, hanno avuto sfortuna un po', perché comunque la sonda ha traslato un po' e una zampa ha incocciato un sasso e si è rotta una zampa, perché ha incocciato su un sasso. Non sono stati forti, però comunque dai, la sonda funziona, quindi dai, li consideriamo allunati. Allunati. Io nel frattempo, invece, a tempo perso, mi sto divertendo a fare un simulatore di terra piatta, terra sferica. Vi faccio vedere qualche cosa, è ben lontano da essere pronto, ma vi faccio vedere che sto combinando. Ci va a vedere la demo. Faccio vedere la demo, ma... Eccolo qua. Allora. L'idea è di fare un qualche cosa simile a quello che fa Bislin, però c'è una cosa di Bislin, ci sono diverse cose di Bislin che non mi piacciono. Ad esempio, Bislin ha questi oggettini che mette, che sono graficamente anche abbastanza bruttini. Io invece vorrei fare un simulatore dove tu hai un'immagine di qualche cosa e la butti sulla scena e poi la muovi. Adesso c'è questa qui, questa qui è una pala eolica che ho scontornato, sta a 20 chilometri dall'osservatore, l'osservatore sta ad un'altezza di 200 metri sul livello del mare, poi ci sono i vari parametri del dispositivo, quindi c'è la lunghezza focale, il FOV diagonale orizzontale, l'altezza angolare, quindi cambiamo l'altezza, mettiamola a 100 metri. Ora, che succede? Cambio un po' tutto, gli oggetti che sono andati a finire dietro l'orizzonte adesso vengono rappresentati un po' diversi, però iniziano ad essere tagliati dall'orizzonte perché stanno dietro. Compressi, compressi. Vengono compressi. Se metto 500 metri sul livello del mare, ovviamente, quasi tutto torna a essere visibile. Poi la cosa bella è che io posso cambiare dimensione, adesso faccio quest'ultimo, allontaniamola un po', mettiamola a 30 chilometri invece che a 20, e a un'altezza di 100 metri, facciamo un super mega turbinone elettrico, facciamo di 200. Quindi si possono cambiare i parametri in base alle caratteristiche degli oggetti che si vanno a mettere, ma la cosa bella, secondo me, anche rispetto a business, è che tu puoi aggiungere quanti oggetti ti pare. Ad esempio, puoi in realtà fare un vero e proprio parco eolico. Se hai una foto, puoi rappresentare tante turbine quante vuoi mettercene. Ecco, la puoi spostare un po' a destra, un po' a sinistra. Funziona un po' così. Poi, l'idea finale che vorrei fare è poter mettere una fotografia sul retro, sul disfondo, e iniziare a aggiungere gli oggetti, a metterli, mettere il punto di vista secondo la fotografia e secondo le caratteristiche della fotocamera, e andare a mettere gli oggetti e vedere se corrispondono secondo la terra sferica o secondo la terra piatta. Adesso se lo metto su terra piatta, questi oggetti non compaiono, ma l'idea è che non compaiono, ma non si spostano. Ancora non l'ho aggiustato questi oggetti per rappresentare la terra piatta. Comunque, questa è l'idea, avere un pochettino più grafico, che sia più vicino alla fotografia che si vuole verificare. Ovviamente ci manca ancora anche la rifrazione qui, quindi ho ancora un pochettino da lavorarci su. Però, diciamo, a tempo perso ci sto lavorando, faccio vedere, cambiando la focale, come cambiano le cose. Penso, avete capito. Beh, questa è un'altra cosa che... Tra non so quanto tempo ci mi piegrò a finire una versione utilizzabile, però diciamo che sto già a buon punto rispetto a tutti i calcoli che stanno messi dietro per muovere gli oggetti e per caricare le cose. Quindi, tra non moltissimo questa roba sarà a disposizione. Non so quanto tra non moltissimo sarà, però sarà a disposizione. Perché sapete, Dave ogni volta va sul mio blog e dice oh, non c'è la riferimento, non c'è la prospettiva. Cosa che non ha senso. Adesso ci sarà un simulatore, c'è l'oggetto, lo allontani, lo avvicini e la prospettiva è contemplata per forza di cose. Quindi, ovviamente, non è uno strumento che contempla i miraggi o deformazioni dovuti agli scambi termici con il terreno. Quindi, ci sarà la rifrazione con la densità che aumenta in maniera costante andando verso il basso. Ok, ecco. Dai, però, vedi, però, il risultato che portano è sempre qualcosa di costruttivo. Vorrebbero affossare, invece, provocano reazioni costruttive. Vedi? Tu ti sei messo lì. Sì, sì. Il problema è che, la questione è che queste cose le faccio io, loro non sanno nemmeno dove sta di casa. No, vabbè. Non avrebbero proprio idea, non ti sanno dare una spiegazione di quello che succede. Dicono, ah, è così perché lo vedo così, ma non sanno razionalizzare e mettere delle... delle idee per costruire qualche cosa che dia una risposta. Altronde, non hanno un valore che sia uno che torna, quindi... la questione è sempre la stessa. Bene. Riassumere con una piccola cattiveria. Ti racconto una barzelletta. Sai quanti terrapiattisti ci vogliono per cambiare una lampadina? Secondo me, nessuno, perché non la sanno cambiare. Manco un elettricista sanno chiamare, perché non sanno che studi ha fatto. E' riproducibile il laboratorio cambiare una lampadina? E' un esperimento che se non è riproducibile il laboratorio, no? Sì, sì, però scusate, ma la lampadina com'è fatta? È sferica. No, che dici? No, no, no. Dimostrami, dimostrami. Fammi una lampadina adesso, dai. Con gli oggetti che hai in casa, fammi la lampadina. E non mostrare sui calcoli, eh. Né sono calcoli, né sono immagini. Come falla, ora? Perché una resistenza elettrica si può fare veramente in casa, e questo è il discorso. Una resistenza elettrica emette luce. In piccolo modo è una lampadina. Sì, sì, fa l'esperimento. Le vecchie lampadine incandescenze si basavano su questo sistema. L'unica cosa è che ti si brucia subito. Subito, sì. Vabbè, con le cose che ho a casa, alla MacGyver, uso la classica graffetta per carta. Che stai mangiando? Che stai mangiando? Ho bevuto un integratore di magnesio e potassio. Dopo la pedalata di oggi ci vuole. Ma lo facciamo il giochino che ogni volta che dice concordo ci facciamo uno sciottino? Qualche volta lo facciamo. Vai, vai. Mamma mia, i nostri cagati ci odiano di già. Facciamo il cacco del concordo. Finiamo ubriachi fradici dopo un'ora di... Il concordometro. Il concordometro. Esatto, il concordometro. Non so se abbastanza vodka a casa. Sì, sì, lui è sempre avanti. Sono incassate o non incassate? Povero Dave. Va bene, allora iniziamo. Guardiamoci questa roba. Ma io non l'ho vista perché... Figuriamoci se mi perdo... Nuova serie su Netflix. Se durante la settimana mi posso mettere a guardare queste cose. Eccola qua. Teoria e tecnica. Attenzione. Teoria e tecnica. Sembra il libro delle... Teoria e tecnica delle costruzioni. Teoria e tecnica del giardinaggio. Manuale di... Mi sono piegato in due dalle risate solo solo come ho letto il titolo. Ma scusate... Poi guardate tutta questa forma di... Ma è tipo Einstein... Verso nei Star Wars, scusate. E il discorso del mantello verde che fa riferimento... Non ve lo dico, non ve lo dico. Aspetto... Aspetto che iniziate a... Non spoilerare, dai. Non spoilerare niente. Ecco, ecco. Devo essere sincero. Apprezzo Ceracchini perché non ha la sigla da 15 minuti. Questo devo essere sincero. Lo apprezzo molto. Andiamo. Vai. Alza un po'. Le forze in gioco. Teoria e tecnica. Un minuto e quaranta di sigla ci sta, dai. No, vabbè, ma questo è il preludio. Perché è una live, diciamo. Sì, sì, è il preludio. In attesa che si colleghi, c'è... Non è una vera sigla. Comunque c'è il mappamondo, eh. Buonasera a tutti. Come state? Buon giovedì sera. Ciao. Oggi siamo qui per un appuntamento insolito, ma molto stimolante. E parleremo della forma della Terra, come avete ampiamente intuito. Oggi iniziamo una nuova serie che si chiama Teoria e tecnica della Terra Piana. Questo è l'episodio uno. Parleremo delle forze in gioco. Poi vi spiegheremo bene cosa significa. E questa sera ho il piacere di introdurvi un compagno d'avventura, che per noi è anche un compagno di fede, perché fa parte della nostra confessione religiosa. È, diciamo, un appassionato di questi temi. Segue l'argomento Terra Piana fino, diciamo, dagli esordi, nel senso che fin da quando è andato in auge, fin dal 2016. Anch'io più o meno è da quel... Oppa la miseria. Abbiamo un veterano. Abbiamo un veterano della Terra Piatta. Per io dove mi interessa. Lui ha approfondito molto la questione sul piano della fisica. Quindi faremo una serie di incontri un pochino tecnici, senza la pretesa di essere, diciamo, troppo complessi come ragionamento. Sì, sì, no, no, non ci vai troppo complesso e troppo... Niente formule, niente modelli, niente, eh. Sennò la gente stacca la live. Un pochino tale da essere precisi, accurati e dare degli strumenti solidi per la comprensione e per la diffusione di questi temi. Allora, io ho il piacere di introdurre il nostro amico Silvio. Silver come nome d'arte. Diciamo, Silver per gli amici. Benvenuto, Silver. Grazie, Gabriele. Grazie. Ma, ma... Si metteranno d'accordo con questi giorni che la mappa di Gleason è sbagliata? Perché... Cioè, ogni volta se lo ripetono tra di loro. Eh, sì, però questa mappa non funziona. Eh, sì, però non possiamo tener conto di questa mappa. Eh, sì, però... Però, alla fine ce l'hanno sempre dietro le spalle. Chissà perché. Eh, Fed, è che... L'austale a forma di sigaro ha il suo fascino. Però l'ha messa ruotata di no a tarare. Eh, sì, perché per farla vedere tutta, capito? Cioè... Fatta questa introduzione, svelo l'arcano sul mantello verde del personaggio che vediamo sullo sfondo. Osservate il colore dei capelli del personaggio sullo sfondo. Osservate il colore dei capelli del nostro sorridentissimo personaggio in primo piano a sinistra dello schermo. No, a sinistra dello verde è il simbolo della sua religione. Lui quando appare in pubblico, lui e tutti i suoi compari vestono questo mantello verde da discount dei giochi di ruolo perché è la loro veste da accoliti di questo culto basato sull'esonero fiscale che sta cercando di diffondere. E' lui ragazzi, è lui da saggio. Io lo toglierei per tutte le confessioni religiose. Ah, fuori da ogni dubbio, io le eliminerei pure tutte. Se le vuoi frequentare te le vai a cercare, non ci devi inciampare sopra. Figuriamoci se ne voglio una creata su ste cagate e voglio pure fargli l'esenzione fiscale. Ma no, scherziamo proprio. Vabbè, andiamo avanti. Grazie per il benvenuto e ciao a tutti. Allora, facciamo qualche saluto. Ciao a Beatrice, ciao Tamara, ciao Frenchi, ciao Danilo, ciao Maria Chiara, ciao Eppi, mitico, sempre presente. Buonasera a te. Ciao anche a Paola, ciao a Renato. Benissimo, bentrovati. Allora, dicevamo, come sapete, ormai è da tanto tempo che siamo usciti allo scoperto, tra virgolette, e che abbiamo manifestato tutti i nostri dubbi e la nostra sfiducia circa il modello eliocentrico che ci è stato imposto fin dall'infanzia, fin dalla nascita, e che purtroppo spadroneggia da secoli, e che tra l'altro ha attinto a numerose risorse, e spadroneggia da millenni, da secoli, la sfericità terrestre si sa da più di duemila anni, non ha attinto nessuna risorsa, basta fare osservazioni e capire le osservazioni e finisce lì. Di che risorse abbiamo bisogno? dotati di un paio di occhi e di un cervello, capisci che il sole tramonta senza allontanarsi, capisci che durante le... quando ci sono le eclissi, quello che si proietta sulla luna è la sagoma della Terra, che è sempre circolare, e quindi dipende necessariamente da un oggetto sferico, e basta, cioè finisce là, non è che ci stanno risorse da mettere in gioco. Un razzo. Legie, finanziamenti... Un razzo, dico. Vorrebbero un razzo. Sì, perché c'è sempre questa pigrizia mentale, se sei uscito fuori dall'atmosfera per vedere la Terra da fuori, ma no, si può capire, ci sono le persone che hanno un po' di capacità analitiche di fare... di non ragionare a pareti stagne, riescono a collegare le cose e comprendere. Non c'è bisogno di andare fuori dall'atmosfera con un razzo, a parte il fatto che abbiamo tonnellate di foto della Terra da fuori dall'atmosfera. E che parliamo? Risorse infinite, quindi si è strutturato in maniera pachidermica, in maniera ciclopica, quindi adesso è difficilissimo affrontare, no? Un po' questa corazzata, trovare i suoi punti deboli e metterla in discussione. Però diciamo che tanti ricercatori hanno evidenziato numerosissime falle in questa narrazione. Ma dove? Ma dove? Ma quali? Ma nella vostra mente? Sono... Aspetta, aspetta, adesso me ne viene una. No, non ci sono. No, cioè... Un po'... Sì, proprio si creano queste realtà... Si può entrare in live, sì, sì, come no, aspetta. Si creano queste realtà alternative? Basta che non sei... Basta che non sei... che non sei mutandone, puoi entrare in live, perché abbiamo capito il mutandone come fa. Esatto. Certo, certo. Pirlas. Quindi noi siamo qui per raccontarvi che la Terra non è una palla rotante. Sembra la cosa più assurda, no? Che si possa dire. No, è la cosa più assurda, perché dopo che uno ti ha sotterrato... Posso lasciare più al video? Sì, sì. ...dire in epoca moderna, però è proprio così. Cioè, noi ci troviamo su una Terra che è piana ed è ferma. Poi esattamente quello che... Diciamo, tutti i dettagli della nostra amata... Questo è il razzo. C'ho questo meme salvato, mi sembrava. Si legge? Sì, sì, si legge. Non puoi fare questa cosa, ho sganciato la... Bellino. Dai, ve lo faccio vedere. Cheer up, gang. Even though it appears we were wrong, at least we want this free space tour, right? Ok, mission control. We get it. We can fly as done now. Mission control. L'unico problema... L'unico problema è che il razzo è troppo piccolo. È troppo. È troppo piccolo il razzo. CGI poi, si vede che è CGI. Sì, sì. Continuiamo. Non rimetto indietro tanto che non è che ci per... No, no. Non è che ci per... Ora, questa puntata di oggi, questo primo episodio, sarà concentrata più che altro sull'analisi di alcune delle argomentazioni che vengono normalmente portate nell'ambiente della terra piana che però hanno qualche difetto. Giusto, Silber? Qualche imprecisione. Imprecisione. Diciamo... Come dici, scusa? Imprecisione, sì. Esatto. Qualche imprecisione che noi ci teniamo a correggere perché vogliamo che quando si parla di questi temi lo si faccia con un certo rigore, una certa precisione in modo tale da essere inattaccabili perché dobbiamo riuscire ad essere convincenti per tanti individui che oggi ancora seguono ciecamente questa narrazione i quali hanno bisogno di trovare persone preparate, consapevoli e credibili a raccontare una realtà alternativa. Tanta, ma tanta di quella precisione è che non hanno mai fatto un vero studio su quello che dicono. Ogni volta che gli poniamo una domanda semplicissima su fenomeni che noi riscontriamo a occhio nudo non hanno mai una risposta da darci. No, ma a parte che non hanno mai una risposta, non hanno una mappa, non hanno una dimensione della mappa, non hanno l'altezza del sole, non sanno quanto è grande, non sanno quanto è grande la luna, non sanno se passa prima o dopo, non hanno qualche cosa che possono mettere insieme per dire ah, vedi, questo modello che rappresenta la terra piatta funziona. Cioè si fanno sempre questi discorsetti tra di loro, dobbiamo spiegare con precisione, non spieghi nulla, non dici nulla, porta, porta le evidenze di quello di cui parli. Noi di eh, di verifiche delle eh, delle loro riprese eh, a livello del mare in quota, in montagna, da dove, da dove la vogliono fare. Le verifiche le facciamo ogni santa volta con modelli predittivi, con calcolatori, eh, come si, come si vede, eh, si vedono le stelle, come girano le stelle, si verifica con Stellarium che è un modello realizzato su, sul, eh, sul sistema eliocentrico, eh, loro fanno solo le chiacchiere. Questa è, questa è la questione. Portate un, qualche cosa che funziona, qualcosa che funziona. Io torno alle mie domande semplicissime. Spiegami come sul vostro modello funziona un eclissi di sole, se quella di luna è perché la luna si spegne. Come, come avviene? Intanto che un eclissi di luna, se la luna si spegne si dovrebbe vedere da tutto il mondo e invece si vede soltanto in un determinato territorio. E noi... No, no, ti correggo, l'eclissi di luna si vede dovunque. Se hai l'allocerio... Ah, ok, allora quella, ti chiedo scusa, è quella di sole. È quella di sole che si vede soltanto in determinati territori. Giusto? Sì, quella di luna la vedi da qualsiasi parte la luna si è in cima. Ok, sì, sì, giusto, ho confuso le due. Quindi, allora, va bene il discorso. A maggior ragione hanno molte più possibilità di guardarsela dal vivo. Tipo ce n'è una fra poco, credo. A maggior ragione. Un'eclissi di sole che si vede soltanto su determinati territori come me lo giustifici. Ah, ok. No, quella di sole dicevo su determinati. Sì, sì, tranquillo. Tranquillo, ci siamo accavallati e ci stavamo confondendo fra di noi. Tranquillo. come lo spiegate? Sulla glison punta del Sudafrica punta del Sudamerica come fanno a vedere al loro sud contemporaneamente la croce del sud? Tutti i fenomeni di come si chiama? Aurora Boreale tutte queste cose come le spiegate? La universo elettrico comunque quello che fanno loro è un'operazione che tutti noi ben sappiamo invece di darti la risposta ti dicono ma come è possibile che l'ombra sulla terra sferica sia più piccola se uso la mia torcia su un globo l'ombra è più grande cioè cercano di difendersi con queste fesserie perché non capiscono che il sole è un oggetto molto più grande quindi necessariamente proietta l'ombra della luna l'ombra della luna poi proiettata sulla terra è più piccola ma non li scardini perché perché c'è una c'è una ci sono problemi di 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 appunto non a caso guarda c'è una cosa positiva che almeno Ceracchini dice che che questa è una religione capito quindi sappiamo almeno è onesto nel dire che sta roba qui è fatta per culto religioso e non per per verità scientifica sì tutti gli altri l'hanno trattata come una religione senza ammettere che era una una religione lui almeno dice che la sta presentando come una delle delle sue tre vie della sua religione sì sì questo secondo loro non esiste i sei mesi di notte e sei mesi di giorno in antartide non esistono non esiste l'antartide figuriamoci sei mesi di luglio o di luce nel gruppo nel gruppo telegram abbiamo una persona che è stata in antartide e che ha fatto lei stessa ha fatto ha fatto il ciclo il ciclo del sole delle ventiquattro ore esiste esistono i sei mesi di giorno altro che va bene andiamo avanti siccome tutte queste qualità io le ho ravvisate in silver è un mio piacere averlo ospite questa sera e per le puntate che faremo insieme e adesso ti lascio la parola silver e se vuole venire pure qua silver non ci sono problemi raccontaci un pochino quello che di cui volevi parlarci oggi immagino che partiremo partiremo dalla gravità giusto dall'analisi di questa forza e da come viene raccontata talvolta nell'ambiente del terapiatismo prego esattamente esattamente abbiamo deciso di partire da qui perché di fatto è la base un pochettino e come hai detto te l'obiettivo è quello di rendere più consapevole le persone che si avvicinano a terra piatta o alle stesse persone che magari ci insomma seguono l'argomento da tempo sia per evitare di prestare il fianco come hai detto tu a eventuali critiche che poi in qualche modo annullerebbero tutto ciò che è di buono noi stiamo dicendo e però aggiungo una cosa il 99% delle persone che credono nel modello a globo in realtà non lo conoscono questo modello secondo me è anche bello dal punto di vista umano invece far vedere la differenza far vedere che noi conosciamo benissimo il modello a terra globo e conosciamo però anche benissimo il modello terrapiano certo con i limiti che tu in realtà nessuna delle tue cose nessuna delle cose ha messo le mani avanti con i limiti lo conoscono benissimo con i limiti che non lo conoscono per niente nessuno dei due questa cosa oddio da un certo punto di vista da un certo punto di vista ha anche ragione che qualcuno che crede perché ci crede perché lo dicono tutti ma è perché non si è mai posto il problema però noi per esempio noi quattro sapremmo argomentare magari uno preso in strada non lo sa argomentare perché è una cosa che non gliene è mai fregato niente non è perché non lo capisce o perché perché non gliene è mai fregato niente ti prende più che altro la sprovvista perché ci sono cose che è vero che vengono insegnate e vengono un po' recepite senza senza una riflessione critica però voglio dire non è che ci vuole non è rocket rocket science come si dice non ci vuole non ci vuole l'ingegnere aeronautico per capire la gravità o per capire almeno per capire come funziona e che sia un che sia un fenomeno fisico riscontrabile ecco poc'anzi ricordarmi no perché tante cose noi non possiamo vederle dimostrare cercherò di essere molto semplice cercheremo tutti di parlare insomma in maniera molto semplice perché di fatto non servono grandi conoscenze ma giusto qualche cosa da qualche informazione insomma da liceare quindi io ho preparato alcune cosine cercherò di essere semplice ma se qualcuno per qualche motivo non capisce o ha delle domande può ovviamente farle guarda chi c'è c'è Dave eccolo permettetemi di condividere lo schermo ragazzi vi ricordo che tutti i lunedì sera alle 21 e 30 noi siamo anche sul canale di Dave80GS che è con noi anche questa sera ciao Dave e cerchiamo di sviscerare questi temi ormai abbiamo fatto tante puntate insieme e continueremo a farne tante quindi ricordatevi che abbiamo un appuntamento fisso il lunedì sera con Dave alle 21 e 30 sul suo canale YouTube e volendo alle 16 ma questi ancora non si tagliano le vene a guardare Dave che ripete le stesse cose ogni santa volta ne sono ammaliati sono vabbè sono qualcos'altro ma no ma tanto non li seguono mica stanno a scrivere a vomitare cose in chat non è che li seguono gente che sta lì che che sta solo lì a fare da tronde come vengono chiamati la 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 ciurma la come è? la bonus fanno fanno riempimento il loggione il loggione la piccionaia la piccionaia la piccionaia la piccionaia il contenuto del sacchetto dell'umido ma il termine è giusto infatti dalla piccionaia cade cade quello che cade si comportano si comportano come piccioni quindi non potevano trovare termine più giusti andiamo avanti 18 il giovedì ci siamo io e Silber e continuiamo a parlare di questi temi ok? bene buon proseguimento allora io ho preparato un piccolo se se me lo mandi in onda subito vai ho usato questo piccolo foglio bianco per scrivere qualcosina iniziamo proprio dalle forze a capire un po' meglio che cosa è la forza per parlare della forza di gravità e non solo perché così facciamo un po' di chiarezza perché spesso ci sono informazioni un po' così un po' ambigue allora prima di tutto iniziamo con questa qua in alto è una la forza è una definizione per descrivere la realtà e questo è importante da capire noi utilizziamo dei modelli per capire descrivere che cosa sta succedendo abbiamo deciso hanno deciso qualcuno ha deciso che la forza è qualche cosa che serve per descrivere la realtà ed è ciò che fa muovere una massa gli dà un'accelerazione gli imprime uno spostamento come vedete ho messo le freccine per indicare che sono dei vettori cioè c'è implicato dentro uno spostamento quindi se vediamo un qualsiasi oggetto muoversi per definizione ha subito una forza scusate scusate io sono un ignorante di fisica perché a scuola non l'ho studiato ma un oggetto che si muove se non è una forza a muoverlo che cos'è? no che poi bisogna cioè bisogna anche capire cosa per muoversi perché lui sta parlando di accelerazione ma lui invece allo schema che vedo vorrebbe parlare di un sistema inerziale non di un sistema accelerato secondo me ha iniziato già a fare un po' di confusione allora il discorso già dicendo che se vedi un oggetto muoversi c'è una forza che lo fa muovere in realtà non è detto che sia così potresti essere tu che ti muovi e lui ferma bisogna vedere se l'oggetto sta accelerando o sta decelerando quello ha importanza perché se un oggetto si muove bisogna innanzitutto avere bisogna innanzitutto avere il sistema di riferimento ma poi noi sappiamo grazie a Newton che un oggetto mantiene il suo stato di quieto un movimento se non c'è una forza che lo fa cambiare quindi se un oggetto è già in movimento non è detto che ci sia una forza che glielo stia imprimendo ogni istante se io ho un se io se io se no accelerebbe se io sto sto pattinando e mi do la spinta sul ghiaccio e stoppo la forza per spingermi sul ghiaccio io continuo a muovermi anche se la mia forza cessa di agire quindi già qui si fa un po' di confusione con i sistemi i sistemi inerziali vanno bene perché se c'è una velocità bisogna capire rispetto a che cosa stiamo calcolando se io sto sul treno e vedo il treno che viaggia in direzione opposta qual è la velocità dei due treni devo se guardo l'altro treno per me il treno a fianco sta viaggiando molto più velocemente se io considero come sistema di riferimento il treno sul quale sto quindi vediamo un po' come si addentra in questo discorso perché secondo me siete ragazzi spremuti no no non è che siamo spremuti sentiamo ora perché per definire uno spostamento abbiamo quindi questa forza ha generato un'accelerazione quindi ha generato uno spostamento per definire tale spostamento abbiamo però bisogno di un sistema di riferimento e una forza può avere quindi valori diversi a seconda del punto di vista cioè a seconda del sistema di riferimento che stiamo utilizzando quindi potrebbe non solo modificare l'intensità ma persino apparire dal nulla o scomparire questo è sto anticipando comunque l'ha ripetuto questa cosa della forza secondo me è lì che si è ceppato la forza di corioli e così via parlando di forza di gravità tutti gli oggetti se lasciati andare cadono verso il basso questo significa che comunque su di loro sugli oggetti agisce una forza perché c'è uno spostamento normalmente l'accelerazione che noi viviamo è sempre costante per qualsiasi tipo di oggetto cambia la massa quindi cambia la forza peso ciò che noi non sappiamo quindi è cosa genera questa forza ma non possiamo dire e quindi ma il discorso qual è a questo punto Newton quando ha descritto ha scritto la legge di gravitazione universale ha detto esattamente queste cose se ho un oggetto e lo lascio questo accelera andando verso terra l'accelerazione tendenzialmente è costante indipendentemente dalla massa dell'oggetto quindi l'accelerazione è costante per tutti gli oggetti questo si riscontra e viene riscritto molto bene dalla legge di gravitazione universale è finita lì l'unica cosa che ha aggiunto è che si è capito che questa accelerazione dipende dalle masse perciò il termine gravità grave il grave è un massone grosso il grave e quindi pesante il termine gravità è perché è riferito alla massività degli oggetti sì vabbè massone grosso mi sono messo a dieta me l'avete servita su un piatto d'argento quindi ora non ci mandi più le foto dei piatti che cucini ora ah no no con quelli continuo quelli continuo ah le cucini senza mangiarli però no che che faccio se sei a dieta scusa domani inizio la dieta ah domani domani domai domani sì sì ovviamente non è detto che se c'è se agisce la forza di gravità gli oggetti necessariamente cadono verso il basso perché un esempio classico che poi fanno anche loro senza capirlo è quello del palloncino il palloncino va verso l'alto il palloncino pieno di elio va verso l'alto per gravità perché perché quello che loro si dimenticano che esiste è l'aria l'aria ha una massa per metro una massa per unità di volume maggiore quindi pesa per unità di volume di più rispetto al palloncino c'è una sorta di competizione a occupare gli spazi verso il basso tra un oggetto che pesa di più un oggetto un volume che pesa di più e un volume che pesa di meno e quindi questo meccanismo che è sempre accreditato accreditato alla gravità fa sì che il palloncino va verso l'alto quindi anche questo c'è da dire quindi scusa un attimo sempre sempre nella mia ignoranza in fisica lui Silver ha appena detto che la forza varia in base al sistema di riferimento sì quindi se io prendo se io prendo una biglia di vetro e il mio sistema di riferimento è il tavolo da ping pong e gli imprimo una forza che l'allontana di 5 cm dalla mia mano poi cambio di sistema di riferimento prendo un campo di calcio stessa biglia stessa forza che la la sposta sempre di 5 cm dalla mia mano com'è che la forza cambia dal sistema di riferimento se la biglia finisce sempre a 5 cm dalla mia mano la forza non cambia rispetto al sistema di riferimento ma forse diceva le forze apparenti tipo se c'è un oggetto che si sposta 10 km orari verso destra e tu stai andando a 5 km orari verso destra a te sembrerà che quell'oggetto si sposta a 5 km verso destra lui intende questo come sistema di riferimento c'è il discorso che ad esempio se prendiamo il caso della forza centrifuga in realtà la forza centrifuga non è non è non si chiama forza apparente perché in realtà viene fuori se prendiamo uno specifico sistema di riferimento in realtà è l'oggetto che sta andando vuole continuare il suo movimento a velocità costante però viene deviato e questa deviazione crea crea sviluppa una forza però non c'è una forza attiva che viene applicata quindi mi confermate il discorso che parlare di forze così tanto per non ha senso perché bisogna ben scendere nel dettaglio e fare studi e calcoli ben approfonditi più che altro non ha senso perché lui ha fatto una premessa parlando di un sistema inerziale quando poi vuole parlare di gravità che è un'accelerazione quindi non è più un sistema inerziale è questa la cosa che non torna la premessa che ha voluto fare che non c'entra niente con la gravità dal fronte appunto ci sono sistemi inerziali e sistemi non inerziali in genere i sistemi non inerziali sono quelli dove ci sono le forze applicate le forze applicate sono relative a sistemi non inerziali le forze sono relative a sistemi non inerziali andiamo avanti se no ci perdiamo quanto è l'ultimo? un'ora? ecco ricordiamoci sempre scusami Silver che quando c'è un movimento c'è sempre una forza in azione quindi no non è vero falso falso chi l'ha detto? se il movimento puoi anche fare toc e ti va infinito nello spazio ad esempio quindi noi sappiamo tutto sappiamo bene come funziona la fisica no già dimostri che che di fisica non bastichi poco e nulla quindi se un forza ti muove vuol dire che c'è una forza perché la forza è definita tale cosa significa che questa forza potrebbe e poi lo andremo a vedere meglio potrebbe non essere reale nel senso che non ho magari io spinto qualcosa o c'è qualche cosa ma solo per il fatto che sto vedendo uno spostamento vuol dire che io devo descrivere questa azione attraverso una forza se tu vedi uno spostamento non vedi una forza vedi una quantità di moto la forza la vedi nel momento in cui l'oggetto accelera è questo che non c'è c'è molta confusione è questo qui c'è confusione sul termine forza quello di cui parla lui è la quantità di moto se tu vedi un oggetto non ha messo mv ha messo ma quindi quello che capisco ha fatto confusione te l'ho detto all'inizio lui vuole parlare di sistemi inerziali mentre sta parlando di sistemi non inerziali questo dove lui fa confusione quello che capisco io se uno le cose non le sa lo può sembrare anche competente se uno le cose non le sa quello è il problema quello che capisco io è che lui sta cercando di giocarsi ah vedi la forza centrifuga compare perché sto prendendo un punto di un punto di vista particolare però non è non è sempre così quello appunto si chiama forza apparente non è non è necessariamente così vabbè andiamo avanti andremo a capire meglio quindi se per ora le idee sono confuse va bene però l'importante è cominciare a capire è una definizione se vede un oggetto muoversi cambiare la sua velocità ah ok oh ora si l'ha detto l'ha detto ora si se tu vedi un oggetto che cambia velocità puoi descriverlo come forza a prescindere se tu se se stai sulla terra e c'è c'è un oggetto che sta orbitando c'è si crea effettivamente una forza centrifuga ma perché lo stiamo prendendo dal come riferimento del centro della terra vuol dire che ha subito una forza e poi andremo a capire il perché di queste forze e le cause forza di gravità tante volte ho sentito dire che non esiste non è vero che non esiste se c'è stato uno spostamento una forza c'è quello che noi non possiamo andare a dire è che cosa ha generato tale forza se è la materia se è qualcos'altro non importa no no come non lo possiamo dire certo lo possiamo dire c'è l'esperimento di Cavendish per dirlo ma tu hai controllato che non ci fosse magneti dentro Cavendish è l'esperimento più contestato da questi lui dice che anche se c'è una forza non possiamo dire una cosa causata tipo con la gravità sì cribbio santo sono le masse massa grossa tira massa piccola letteralmente sì sì ci mette un po' mette un po' di cose giuste ce l'ha un po' un po' mischiata andiamo avanti vediamo un po' perché se no però possiamo decidere che la forza c'è perché uno spostamento c'è stato questo è proprio un primo passaggio e se guardate nel disegno qua spero che si veda un pochettino il mouse che si muove qua sulla destra ho fatto due esempi noi possiamo essere fermi quindi noi siamo il punto di vista o questi sono i tre assi diciamo dello spazio e vediamo un oggetto muoversi se cambiamo il punto di vista quindi l'oggetto diventa il sistema di riferimento quindi l'oggetto appare come fermo vede vede me vede lo spazio muoversi al contrario banale ma servirà tantissimo per capire dopo cosa c'è con la forza centrifuga quando poi magari parleremo prossima volta anche delle orbite o della forza di corio lì per parlare degli aerei e tutto quanto degli aerei ci sono domande sono arrivate domande in merito scusatemi se stiamo magari la premessa sono proprio le premesse posso dire una cosa posso dire una cosa lui ha detto se noi ci muoviamo invece con la stessa velocità e direzione dell'oggetto vedremo lo spazio intorno muoversi noi fermi noi l'oggetto fermi e lo spazio intorno muoversi non ha fatto l'esempio perfetto di come vediamo noi il cielo che noi ci muoviamo solidali con la terra e vediamo il cielo che ci si muove lo spazio che si muove banalmente c'è Claudio che dice questa cosa qui e in realtà una delle versioni della gravità terapia artiste è che non sono gli oggetti che cadono sulla terra è la terra che sta accelerando verso gli oggetti sta accelerando verso l'alto però pure questa fa cioè vorrebbe dire che la terra è in continuo e in continua accelerazione e starebbe viaggiando verso l'alto a velocità stratosferica alla velocità della luce smodata la velocità smodata smodata sì velocità pazzesca è la Ferrari premessa cioè senza di questa premessa è difficile poter andare avanti poi negli altri discorsi come al solito sono un po' noiose però sono da fare spero che tutto sia chiaro poi comunque man mano verrà compreso bene tutto quindi che cosa possiamo dire una delle cose che spesso si sentono ma che sarebbe magari allora se la chiami forza per me forza x ma guarda io l'ho chiamata tempo fa la battezzai forza geoattrattiva cioè qualche modo ne sappiamo che siamo attratti verso la terra il perché non lo sappiamo ma è così quindi se sto leggendo il commento cioè gli proprio leggono gravità gli viene l'orticare sì sì forza va bene ma non forza di gravità non lo sanno nemmeno loro perché gli sta così su quindi se fosse il sole che attrae la roba sarebbe forza elioattrattiva no quello è lo sforzo non è la forza è lo sforzo ma possiamo chiamarlo pure forze forze di giuseppe va bene se lo chiamiamo forze di giuseppe per me è uguale perché comunque il principio è lo stesso è una forza che è legata alle masse degli oggetti gravità forza geoattrattiva noi siamo attirati dall'enorme mondo che c'è sotto i nostri piedi praticamente è la spiegazione più ignorante che si può dare della forza di gravità non stanno rottamando la scienza la fisica semplicemente la stanno rinominando è la versione cinesata della scienza si la fa la scienza con la Y certo c'è una forza che ci fa aderire al suolo ma anche perché ci fa aderire al suolo ma anche perché se no ti immagini se no ti immagini che mondo di merda che sarebbe con tutto che galleggia e gli animali terrestri si confonderebbero con quelli che stanno nel cielo e non ci sarebbe un ordine non sarebbe un casino ma che cazzo che cazzo sta a dire lui ha dovuto richiamare subito il lato esoterico mamma mia il lato esoterico della faccenda che l'altro stava andando troppo sul tecnico lui ha voluto ribadire il fatto è che se non c'è la serenità nemmeno esisterebbe animali terrestri che cazzo vuol dire ma le male animali generale gli animali sono dieci anni che sono dieci anni che dicono che la gravità che non c'è nessuna forza e che la densità sono dieci anni adesso scoprono che esiste una forza cioè troppo da matto quindi è ovvio che ci deve essere una forza che ci fa stare attaccati al suolo il creatore ha pensato a tutto il creatore il demiurgo ragazzi il demiurgo te l'ho detto Silver stava andando troppo sul tecnico lui ha dovuto tirare un po' la corda per ritornare un po' ha dovuto fare ampiamente quindi grazie Ceracchini che ci stai dimostrando che la visione della terra piatta è una visione deistica di culto religioso ecco almeno almeno lo dimostri in maniera plateale ecco ma poi io non vedo non vedo perché la forza di gravità non può essere applicabile alla terra pianta è semplicemente un altro motivo alla terra pianta ma no come non lo vedi hai parlato di vettori hai parlato di hai parlato di sistemi di riferimento cos'è come funziona questi oggetti che cadono in base a che quale criterio vanno verso il basso cioè come fa come dire il motivo è diverso rispetto a quello della forza di gravità nel modello terra globo ma forza di gravità vuol dire forza peso né più né meno eccolo qua potrebbe essere la forza elettrostatica no incoerente 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 è quello che si può attribuire a te sei un incoerente che scarica su un negativo non ci liberiamo come se fosse antane ci aggiungiamo potrebbe essere la forza elettrostatica incoerente che scarica su un negativo come se fosse antane ecco adesso c'è più senso e chi è l'ingegnere che controlla che ci sia la messa a terra aspetta quindi io ti chiamavo la bottiglia acquisto una carica positiva che la terra perché c'è la terra che è negativa ovvio ma la messa a terra ce l'hai eh no purtroppo c'è solo la terra che fa che fa negativo quindi fa una scarica che va ovunque eh ma se tu fai il positivo andate in cortocircuito metti che ti svegli felice più leggero poi finisce se fai contatto come il discorso no che se mi sveglio leggero poi piglio la bottiglia no va più in alto quindi acquista più carica positiva la rimetto a terra le lascia di più e quindi dato che le lascia di più e le licitavano ovunque il cammello come abbiamo imparato che va diritto non va più diritto ma sta gente lo sa che esistono esistono strumenti per misurare i campi magnetici no perché se no non direbbero stesse scemenze lo sanno allora secondo loro basta che che trovo un una piattaforma sulla quale poggi i piedi che si carica positivamente o negativamente salgo verso l'alto faccio l'ascensore caricando sta piattaforma no cioè vogliono fare i treni i treni che viaggiano su sulle rotaie elettromagnetiche funzionano proprio su questo principio qua però devi avere l'altra parte che pure devi caricare positivamente o negativamente non esiste nulla la terra non è non è carica in una determinata maniera che tu ti carichi in maniera uguale e sali cioè vabbè stiamo parlando di Dave che bellezza ci siamo capiti ci siamo capiti diciamo che l'importante è capire che non è che ogni corpo attrae l'altro è la terra che attrae tutto quanto cioè siamo noi che andiamo dall'alto verso il basso ma non è che si attraggono fra di loro questo è il fatto no? no ma si attraggono fra di loro solo che fai prendi delle delle masse grosse cioè ci sono tantissime persone che hanno rifatto l'esperimento di Cavendish hanno dimostrato che effettivamente le masse si attraggono quindi il problema è il fattore della costante di gravitazione quel meno 12 quanto è quello che li mette in difficoltà quindi non si rendono conto di quanto è minuscola la forza di gravità quindi non la puoi apprezzare se non attraverso una massa adeguata come quella della terra purtroppo c'è quel meno 12 che loro si quando vai quando vuoi non mi ricordo cosa la esponente dici l'esponente della costante meno 11 meno 11 meno 11 ok quando vai fuori dalle dalle grandezze che queste persone incontrano nella loro vita di tutti i giorni ho alzato alzato sto sacco che pesa 20 chili oh guarda questo muro è lungo un metro e mezzo quando si trova di fronte a un valore che c'ha per per 10 alla meno 12 gli va il cervello in tilt non si rendono conto non sono capaci di di capire che ci sono grandezze tanto piccole grandezze altrettanto grandi nel la grandezza della terra non riescono ad apprezzarla le distanze tra la terra tra il sistema solare e quello più prossimo figuriamoci proprio questo è uno dei dei limiti grossi che hanno queste persone allora questa è l'unica certezza che abbiamo nella vita di tutti i giorni esiste nel modello ecco proprio ha richiamato proprio l'idea del fatto che sia una cosa che tu apprezzi nella vita di tutti i giorni non a caso classico insomma nella conoscenza classica un solo esperimento secondo me veramente un po' fuffa che è l'esperimento di Cavendish con i globi per cui ha creato questa bilancia a torsione e per cui si dovrebbero avvicinare per via delle masse si avvicinano chi ha visto l'esperimento dice di sì però è anche vero che ci sono le forze elettriche per esempio scusami lui ha detto chi ha visto l'esperimento dice di sì cioè quindi lui sta tentando di confutare un esperimento che neanche ha visto sì esatto l'hai fatto l'esperimento hai sterilizzato l'esperimento dalle cariche elettriche ma secondo lui Kamen dice che è dei primi dell'ottocento cioè in 200 anni nessuno si è preoccupato di verificare che non ci fossero dei magneti cioè secondo loro tutti i dormienti sono il mondo della scienza tutti i dormienti ma non nemmeno lo puoi fare anche tu Kamen sì appunto sì lo puoi fare anche tu ma secondo loro nessuno ha mai controllato che ci fossero in gioco altri in 200 anni nessuno loro sono i primi geni che senza neanche vedere l'esperimento hanno già trovato la soluzione ma mi pare che già 15 anni prima di Kamen ci provava anche qualcun altro a fare ora ora non lo so non mi ricordo neanche l'anno esatto credo che siano i primi dell'ottocento non lo so no fine fine settecento fine settecento addirittura cioè secondo in questo lasso di tempo nessuno ha mai messo in dubbio arrivano loro sono più intelligenti di tutti vabbè scusate ma questo Silver pochi minuti fa non ha affermato che noi siamo attratti dalla terra la chiamata appunto forza Geo qualche cosa Geo attrattiva quindi sul suo stesso pensiero un bilancino di torsione due masse piccole perché non possono essere attirate da due masse più grandi poste davanti a loro perché lui pensa che è la terra è una caratteristica della terra capito le due masse poggiate per terra non fanno parte della terra sono poggiate per terra ma che vuoi che ti dico ma non è fatto di terra è per questo che non fanno come la terra perché la terra è di terra forse perché sono un massone e quindi anch'io sono poggiato per terra forse avrò pensato questo si potrebbe fare un esperimento un esperimento psicologico ok è la terra che attrae se prendiamo un pezzone grande di questa terra ancora la proprietà della terra intera e se lo andiamo a diminuire poco poco ce l'ha ancora quella proprietà e se arriviamo al sasso al blocco ce l'ha ancora quella proprietà secondo me sì ovviamente non non influisce non influisce come la terra intera ma anche una piccola parte del tutto continuerà a avere quella proprietà ma si verifica proprio grazie al bilancio a torsione di Cavendish che tantissime persone hanno fatto e hanno fatto in modo da evitare che correnti elettriche campi magnetici venissero messi in gioco però queste sono le classiche i classici giochetti io non lo so potrebbe essere quello potrebbe essere quell'altro ma verificalo no verificalo fai una bilancia a torsione e verificalo non puoi metterti a scartare una cosa senza che l'hai verificato solo perché ah ma potrebbe essere così ah ma potrebbe essere colà non è non è serio che sono migliaia e migliaia di volte più forti della forza di gravità secondo sempre il loro modello e parliamo certo quindi di conseguenza quanto vale quell'esperimento quanto è riproducibile quell'esperimento a cento per cento a cento per cento a cento per cento devi semplicemente avere degli oggetti eh devi saper fare le cose devi avere una certa manualità nel fare le cose l'unica cosa antipatica è che gli oggetti che sono veramente massivi sono generalmente sono gli oggetti metallici quell'unica l'unica noia però basta dotarsi di due mattoni e lo vedi basta mettere basta scaricare a terra qualsiasi qualsiasi cose che si crea nel in questo sistema in maniera tale da non avere eh da non avere correnti residui che creano campi magnetici non è non è difficile non è riproducibile sostanzialmente non vabbè sì l'abbiamo visto anche con Dave che in effetti sei già il resto capito sì sì allora hanno già visto tutto hanno già fatto non hanno nemmeno iniziato a provare a verificare questo questo questa è questa su questo si basa una religione c'è un c'è un qualche cosa che confuta la mia religione sì ma allora non è possibile non è non è verificabile senza senza verificarla tutte le bilance di cavendish potrebbero funzionare tranquillamente per forze elettromagnetiche per magnetismo potrebbero potrebbero ma come si fa come si fa andare avanti così potrebbero verificano sei capace ma dovrebbe uscire dalla sua stanza non so dovrebbe fare qualche cosa i pugni non puoi fare la bilancia di con i pugni di Hulk qua dietro non so forse forse banalmente sì sì se il bilancio di torsione lo fa con due cucchiai di plastica sì sono due masse più piccole qua sta tutta la fragilità delle costruzioni mentali di queste persone vedo un esperimento che è stato fatto rifatto e rifatto da 200 anni potrebbe essere che non funziona per questo motivo qua ma non lo vai a verificare lo stai lo stai scartando a priori ce l'ha il modo di verificare se ci sei se dipende da un campo magnetico sì allora perché non lo verifichi perché è difficile mi stanno menzionando non ho capito che è successo che è successo che sta a succedere ah perché non si non si vedevano ok niente di che quindi voglio dire dov'è la prova che sia proprio la gravità a far muovere quei pesetti gli esperimenti gli esperimenti gli esperimenti fallo cercala la prova questa è questa è proprio la fallacia dell'ignoranza come faccio a dimostrare come faccio a verificare che questa cosa sia proprio così fallo l'hai fatto l'esperimento oppure hai la necessità di aggrapparti all'idea che ci sia qualcos'altro per mantenere il tuo credo fatela tu la prossima volta ti vedi con Dave fate l'esperimento di Cavendish fatelo fatelo e poi potete dire se lo fate con tutti i grismi ovviamente potete dire non funziona o funziona ma poi che succede succede che quando i terapiatisti fanno un esperimento con tutti i grismi gli torna e si inventano le cose basta vedere quello che ha fatto l'esperimento col giro laser che gli misurava 15 gradi 15 gradi l'ora di rotazione non lo poteva accettare capito questo poi è il problema che quando fanno gli esperimenti che gli tornano e che smontano la loro stessa religione poi non lo possono accettare stiamo sempre stiamo sempre lì questo è un culto religioso è la materia perché nel loro modello è la materia che ha questa proprietà miracolosa di attirare altra materia esatto per via della forza di gravità però è un modello in realtà no ripeto non dimostrabile quindi rimane lì è un modello che non hai non hai verificato non è non dimostrabile non lo hai provato nemmeno nemmeno iniziato a provare a verificarlo lo stai scartando perché ti smonta il giocattolino della tua del tuo credo religioso perché 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 così questo è il problema principale non c'è non c'è altro c'è un c'è un esperimento lo scartano senza verificarlo potrebbe essere così potrebbe essere eccola ma queste sono sono fallace logiche di persone che hanno che hanno che non vogliono non sono intenzionate a verificare se la loro posizione è corretta lei chiede potrebbe essere la forza elettrostatica incoerente che scarica sul negativo perché noi abbiamo rispondo io no assunto che c'è un polo positivo non negativo che la terra è negativa ho una piccola chicca su questo perché secondo me c'è una ipotesi molto affascinante non nuova non mia ma già Marco Todeschini e qua l'anticipiamo volentieri parlava di etere quindi non elettrostatica inteso dire come forza elettrica riprendiamo da Aristotele in etere vai forza elettrostatica non intesa come elettrica cioè è elettrostatica ma l'elettrone non c'è cioè è elettro eterostatica questa forza elettrica che ci spinge ma l'etere etere che c'è sempre esistito nella conoscenza scientifica che hanno cercato di togliere ma non è non è non è hanno cercato di togliere i mezzi infatti quando hanno fatto degli esami hanno visto che nell'atmosfera l'etere non esiste che le onde elettromagnetiche delle trasmissioni radio si diffondono grazie a un altro un altro effetto hanno capito che l'etere non esiste nell'atmosfera non esiste proprio l'etere luminifero non esiste è stato proprio l'esperimento del nostro amico appunto quando quando c'è nella fisica classica c'era l'idea del se c'è un'azione una reazione ci deve essere un mezzo che trasmette questa cosa qui e quindi per un periodo nell'ottocento si sono inventati questo etere luminifero che doveva fungere doveva essere una pezza per cercare non aveva il problema era che Maxwell aveva scoperto che le onde elettromagnetiche erano appunto onde quindi si doveva cercare un mezzo in cui queste onde si propagassero poi abbiamo scoperto che l'onda elettromagnetica si propaga anche nel vuoto non ha necessariamente bisogno di un mezzo tutto qui cioè non esiste banalmente non esiste beh l'entere non esiste in fisica ma esiste in chimica sì ma è una sostanza che non ha niente a che fare io quando vado a vedere le sì appunto non ha niente a che fare con la con la fisica però questi mettono a stieme broccoli e brugole soltanto perché iniziano con la stessa lettera no ma poi è successo che Mike Mike e Morley fecero proprio cercarono di fare un esperimento per cercare di vedere di cercare delle proprietà di questo cacchio di etere luminifero e sostanzialmente cioè non hanno trovato niente non hanno trovato nulla e qualunque posizione l'hanno provato in tutte le posizioni il laser non cambiava niente la luce sempre a quella velocità andava quindi di che parliamo cioè siamo sempre siamo sempre fermi lì si cercano si cercano giustificazioni che sono già state messe da parte dalla dalla scienza per forzare l'idea che la la gravità che dipende dalla massa non è non è una cosa dimostrabile e come si fa ci si attacca a un fenomeno che non è assolutamente riscontrabile in nessuna maniera avanti per farla rientrare dalla finestra cambiandogli di nome e chiamandola quantistica ma se andate a vedere le caratteristiche dell'etere le caratteristiche della meccanica quantistica sono sempre le stesse quindi è soltanto c'è qualche cosa ma facciamo finta che non ci sia perché se no ci mette i bastoni tra le ruote e poi ci mettiamo questo mondo magico guardate la faccia di Fed guardate la faccia di Fed lo puoi ripetere 20 secondi indietro ti prego 20 secondi schifato e sconvolto si togliere dal portone così come forza elettrica perché perché non è così noi non abbiamo questa forza elettrica che ci spinge ma l'etere etere che c'è sempre esistito nella conoscenza scientifica che hanno cercato di togliere dal portone per poi farla rientrare dalla finestra cambiandogli di nome e chiamandola quantistica ma se andate a vedere le caratteristiche dell'etere le caratteristiche della meccanica quantistica sono sempre le stesse aiuto 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 uguale cioè non so da dove cominciare chi ha lavorato la quantistica ha pensato cacchio già l'avevamo scoperta la quantistica con l'etere e poi qual è la caratteristica qual è la caratteristica perché la quantistica perché l'etere l'esperimento di Michelson e Morley è stato proprio quello che ha dato il via ad Einstein perché da quello che ha fatto ha fatto determinate è riuscito a capire deduzioni ha fatto deduzioni quindi che non e non ha nulla a che fare con la quantistica nulla proprio quindi è soltanto un altro modo per dire c'è qualche cosa ma facciamo finta che non ci sia perché se no ci mette i bastoni tra le ruote a chi a chi mette i bastoni tra le ruote a chi e poi ci mettiamo questo mondo magico della quantistica che che però fa cose parallele non si sa bene perché per cosa cioè ha fatto un discorso si per e mele cavoli per e mele e salami cose parallelo quantistica etere che proprio viene dal dal nulla praticamente avanti ma poi ne parleremo di questo perché è una parte molto affascinante e ci darà adito a molte altre cose questo dà dà come l'impressione che lui è esperto di quantistiche di cose capito in realtà in realtà per chi ci capisce qualche cosa è abbastanza chiaro che non sa di che cosa sta parlando tornando invece adesso un pochettino sui nostri passi e tornando al discorso della forza di gravità una cosa che sicuramente dà il problema è la gravità della gravità migliorare da insomma da approfondire se puoi ridarmi il sì del coso e l'argomento della scusami non Dave dopo se abbiamo tempo questa volta o prossima volta mando un video molto interessante ricordatemelo non fatemelo dimenticare quindi quello andiamo a vedere allora si parla spesso di la densità come causa di caduta dei gravi come causa di si parla mi è venuto un pensiero relativo a quello che ha detto ma tu vuoi vuoi sostenere che la la quantistica è praticamente l'etere travestito porta degli esempi fai delle dimostrazioni spiega perché spiega che cos'è l'etere spiega quali sono le sue proprietà spiega quali sono le cose che ti fanno pensare che la quantistica sia l'etere travestito non puoi andare a dire queste cose dando tutte queste cose per scontate e andiamo avanti capite non è dire che non è serio è proprio è una cosa pompata fai delle fai determinate asserzioni porta le pezze d'appoggio di quello che dici non è che uno ti può credere semplicemente perché c'hai l'aria di uno che ne sa si capisce che non ne sai trazione verso la terra non è così perché la densità è solo una caratteristica della materia è massa su volume niente di tutto ciò implica uno spostamento da nessuna parte è uno stato della materia tant'è che noi per esempio se mettiamo un pezzo di acciaio sopra un pezzo di polistirolo non succede niente stanno lì perché è materiale i fluidi quei fluidi fanno su e giù si mettono in un ordine va bene ma quell'ordine chi lo ha deciso perché proprio in quella direzione non in un'altra direzione questi sono gli argomenti sono gli argomenti che noi usiamo sempre per spiegare a questi poveracci che che continuano con sta densità e gli spieghiamo non è può essere la densità perché la densità è un numero non è un vettore adesso adesso lo dice Silver e adesso va tutto in silenzio è fantastica questa cosa che stavi a dire che dicevi tu io non stai dicendo no io no nulla no no ok ho sentito ho sentito ok no no non ero io esiste una forza che attrae tutti quindi non è una forza e appunto la densità non è una forza perché non sposta la materia nei liquidi determinano il galleggiamento e densità diverse nei soldi non determinano nulla cioè quindi e nei gas io adesso vorrei capire una cosa nei gas no i gas non esistono ma se questa forza la forza che si sviluppa dipende dalla massa degli oggetti seguite il mio ragionamento come fai a dire che questa forza non dipende dalla massa dipende dagli oggetti è chiaro se mi stai dicendo che la forza è uguale alla massa per un'accelerazione è più grande la massa è più grande la forza e sono direttamente proporzionali come fai a dire che la massa non c'entra niente con questa forza cioè è proprio è proprio un passaggio logico elementare se la massa mi stai dicendo che la formula è giusta c'è una forza la formula è giusta perché è una massa per un'accelerazione mi dici che effettivamente la forza è proporzionale alla massa però poi fai di tutto per dire che no no ma è la terra che attrae la massa dello corpo non c'entra nulla c'è qualche cosa che non va in questo ragionamento mi sembra abbastanza chiaro no? Purtroppo io lo sento dire spesso ma non ne capisco il motivo per cui nemmeno Enzo lo stava chiedendo proprio in questo momento dice se i corpi fossero semplicemente attratti verso il basso proprio della densità e non attratti dalla terra ecco ma la densità è una caratteristica non è una forza quindi non può essere la densità che ti spinge verso il basso capito? ci deve essere una forza questo stiamo dicendo le forze spostano gli oggetti la densità no quindi io voglio camminare perché ho la forza di volontà che mi fa camminare il fatto che io abbia i capelli lunghi corti neri o biondi non determina la mia volontà del camminare no non ho capito sempre la forza non ho capito il parallelismo si fa la forza di volontà no aspetta forza e volontà e forza come paralleli non ha senso sono belli poi sti commenti che passano sotto perché cioè proprio hanno veramente l'avversione per questa parola questo è una parola è una parola che è come se lo chiamassimo Giovanni è un nome che è stato dato a un fenomeno proprio non gli piace proprio la gravità proprio hanno la repulsione gravità come pretesto che tiene l'oceano è attaccato una sfera rotante ma se gli oceani hanno una massa e la terra attrae la massa attrarrà anche la massa degli oceani o no forza è sempre un movimento certo come tiene gli oceani attaccati a una sfera rotante ma la gravità potrebbe potrebbe in un modello terra globo attrarre qualsiasi tipo di materia per cui anche l'acqua che problema c'è nascerebbero altri tipi di dinamiche sarebbero dinamiche diverse da quelle che noi vediamo attualmente ma happy vuol dire che la gravità in questo caso loro la usano come una scusa per giustificare il fatto che su un globo rotante tu non hai l'acqua che ti scappa fuori dal globo all'acqua non può scappare fuori con una sfera rotante come la terra perché la terra gira estremamente estremamente lentamente l'ha detto standing ovation applausi ragazzi in chat fate gli applausi forse siamo all'anno zero forse siamo all'anno zero ha dei problemi perché come dicevamo prima nega nega degli esperimenti che non ha fatto e non ha verificato ma almeno almeno capisce ne capisce del fatto che la terra ruota molto lentamente la rotazione terrestre è ridicolmente bassa la lancetta delle ore dell'orologio gira due volte più veloce della terra quindi tutta st'acqua che schizza non esiste se pensano che la terra non hanno visto le stelle di neutroni le pulsar figuriamoci se figuriamoci se mettono in gioco queste cose qua non ci esaltiamo adesso che fa un giro su se stesse in 24 ore io sfido chiunque a guardare un oggetto che gira su se stesse in 24 ore e vederne il movimento quale notate notate c'era c'era Cini che sta un po' così sembra uno stitico che deve andare al bagno c'era Cini pensa ma che ho invitato chissà Dave che la stava guardando cosa stava digitando Dave speriamo che appaia un messaggio era partito tutto pompante se volete lo rimettiamo era partito perché parliamo di questa acqua che voleva valorare la tesi dell'acqua che schizza e dopo gli arriva Silber che gli dice ma no e quindi sta in questo stato le forze centrifughe c'è però è anche molto grande Silber ma poco è forte gira a 1600 tangenziali talmente sì alle 14 dovrebbe girare 1600 km orari ma ciò non dimostrerebbe niente perché se fai i calcoli la forza centrifuga gira talmente se fai i calcoli se fai i calcoli a chi lo dici a uno che non ha fatto un calcolo nella sua vita a uno che ha la religione ma quante volte la vi ho voglio sto desiderando ardentemente che appaia un messaggio di Dave speriamo 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 ma quante volte l'abbiamo fatti i calcoli sulla forza centrifuga io mi so sono dieci anni che faccio che spiego perché la forza centrifuga è un trecentesimo della forza gravitazionale all'equatore poi in altre parti ancora di meno ma cioè non se ne può più è lenta che sarebbe e non i numeri se tirate i calcoli viene una forza piccola viene una fesseria fesseria esiste una forza centrifuga che invece ci crea un problema crea il modello sfera un grande problema ma la vedremo più avanti perché non è tanto quella dovuta alla rotazione terrestre che appunto come vi ho detto è troppo lenta sarebbe comunque troppo lenta ma quella che arriva dal giro teorico attorno al sole lì sì che si genera un'altra criticità nel modello una criticità molto forte fatti i calcoli lì fatti i calcoli lì cioè se 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 non schizza girando in 24 ore pensa a te quanto deve schizzare girando in 365 giorni pensa ma lento pensa quanto va lento cioè ma come fa non la fai la proporzione cioè il problema sorge il problema hai sempre un cacchio di semicircolo no se se la la velocità di rotazione è l'angolo che spazi dell'unità di tempo come giustamente ha detto america smontato è sulla terra fai un giro su te stesso stando sulla superficie un giro in 24 ore e viene da sé che la velocità la forza centrifuga della terra che sta ruotando attorno al sole è non ridicola 365 volte più più leggera per dire ora non so se è esponenziale o se è lineare non lo so come io non sono un matematico però come minimo è 365 volte ancora più più debole se già non fa schizzare l'acqua la rotazione terrestre come fai a dire una cosa corretta e poi proprio finisci sulla buccia di banana un secondo dopo nel modello terra terra globo quindi anche lì io non vedo perché c'è bisogno di schierarsi così tanto di voler protrarre a lungo il concetto della densità come causa leggi 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 siamo attratti siamo spinti proprio ci pressano siamo pressati beh abbiamo la colonna di d'aria che agisce da tutti i lati però vabbè avanti la dicaduta dei gravi è una caratteristica questa è una forza che spinge il basso piuttosto che un'azione che c'è tra il suono c'è una forza c'è una forza che spinge verso il basso è un'azione che c'è tra il suono non è la stessa cosa forse non ho capito la domanda di Danilo non l'ha capito nemmeno Danilo la domanda di Danilo c'è una ma ho capito c'è qualcosa che arriva dall'altro e ci schiaccia piuttosto che dal basso e ci tira ok forse l'ha messa così ma assolutamente non si può definire ma come no fino a che non andiamo a investigare le cercano questo Danilo scusa questo Danilo dice e l'atmosfera che ci schiaccia al terreno non è il terreno che ci attrae a sé le cercano tutte proprio in tutte le maniere pur di cercare un'alternativa alla gravità le cercano tutte disperatamente sono disperati perché nella densità no allora può essere l'elettricità e l'elettricità no allora può essere che ci spingono ci spingono invece sono proprio non possono accettare quello che abbiamo capito non c'è verso le cause della forza sono due ipotesi che possono stare bene entrambe insieme se vogliamo essere formalmente corretti io nell'ipotesi che andremo a vedere sono dell'idea che c'è qualcosa che ci spinge sotto e non qualcosa che ci attira ma il risultato comunque notate anche la finezza la finezza dell'immagine di Semiasi che c'è sopra scritto Suga è un signore Semiasi è un signore ti abbracciamo con tanto amore Semiasi ti vogliamo tanto bene se sei veramente un signore e salutaci i cammelli fisico non cambia niente io lo sto ancora cercando il cammello subacqueo purtroppo non le fanno più devono rievolversi io voglio il commento di David oh cavolo dai se se trovate l'allevamento di cammelli subacqueo e vi prego mettetemi in contatto perché ne ho bisogno ok quindi sono solo ipotesi Paola come ti hanno fatto notare in realtà la forza che si sviluppa durante una notazione è la forza centripeta questa ci ha capito quindi non è la forza io capisco una sega lei ci ha capito tutto ma l'avrà fatto il liceo ma l'avrà fatta la prima elementare questa cioè leggete se scrive oddio quel faco all'apostrofo mamma mia no ma parte quella che è apostrofo io posso farlo perché non ce l'ho sulla tastiera ma vabbè andiamo avanti dai non ci soffermiamo sappiamo sappiamo qual è l'audience di questa gente qua quindi che ci dobbiamo meravigliare ogni volta la cosa di gravità che nasce dalla rotazione esatto questa è una cosa che di Paola sta rispondendo sì sì tranquillo concentrati sulle cose che devi dire così io mi curo dei commenti va bene va bene allora se non ci sono domande se non ci sono perplessità sulla densità che è una caratteristica e non una forza e non determina alcun tipo di movimento direi che possiamo andare avanti su un'altra cosa carina che sarebbe da approfondire e cioè che spesso si sente dire il fatto che l'acqua sta a livello dimostra che la terra è piana la frase posta in questo modo è una tautologia vuol dire sto mettendo dentro la mia tesi già dentro l'ipotesi e quindi per forza viene vera e in questo caso l'errore sta nel concepire la parola a livello come qualche cosa di piano orizzontale e invece non è così un livello può avere ma siamo sicuri che questo è terapeutista siamo sicuri cioè sta smontando sta debbuncando tutte le fregnacce che i terapeutisti dicono da 10 anni a questa parte ci fa un favore chi gli dà ragione adesso bisogna vedere perché c'è sempre l'effetto memoria pesce memoria pesce pagliaccio capito quindi bisogna vedere quanto quanto le cose vengono dette in questo video rimangono nel rimangono nel cervello sì 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 è chiaro sì sì per qualsiasi tipo di forma ma devo mettermelo pure io dietro la Gleason inizio a dire queste cose qua ora metto pure la Gleason dietro perché il livello è intesa come linee di forza di un campo per esempio quindi lettere non sono le condizioni e quindi in qualche modo è lì che aspetta questa frase non è nemmeno scritta in italiano quindi lettere non sono nelle condizioni di escludere altri motivi per la caduta verso il basso questa certezza non la ho oddio aiuto la risposta è in realtà paradossalmente è proprio l'esperimento di Eddington che ci permette di dire che non c'è nessun ma è proprio una curvatura dello spazio-tempo banalmente partiamo da questo punto per approfondire qualche cosa di più specifico sulla forza di gravità e andiamo a correggere anche questa frase per capire meglio nella vita di tutti i giorni G è costante quindi oggetti diversi hanno la stessa accelerazione significa che due oggetti con pesi diversi subiscono due forze di intensità differente la caratteristica di G come abbiamo detto è che è sempre direzionata verso la terra perché è verso la terra perché è la scienza ufficiale per la scienza ufficiale perché è la materia che genera attrazione questo è un po' quello che abbiamo detto prima quindi il vero problema non è capire se esiste ma è cosa determina tale forza allora scusa c'è una domanda Silver c'è Enzo che mi chiede ma allora perché quello più leggero dell'aria non viene attratto cioè per esempio non è vero che non viene attratto è quello non è vero che non viene attratto semplicemente l'aria viene attratta con più forza e quindi quello viene attratta con meno forza peso meno forza peso non è che andrà via ma che fa dice certo concorda pure con le cose io sono ma io direi un altro applauso per Silver ragazzi un applauso in chat ragazzi io sono sconvolto è una grande serata oggi questa è una grandissima serata sta spiegando che il palloncino sale verso l'alto perché l'aria pesa di più ora glielo sta dicendo non è che scappa via si ferma glielo dice lo stava dicendo semplicemente farà come la nave che non affonda ma galleggia sull'acqua un palloncino riempito di elio non è che va via semplicemente si andrà a posizionare su un livello dell'atmosfera dove potrà galleggiare dove la sua densità sarà equiparata con la densità che è attorno quello che noi vediamo quando vediamo salire un palloncino tecnicamente non è un palloncino che sale per grazia divina ma è perché c'è l'aria densa trasparente che noi non vediamo con gli occhi che invece più pesante se ne va sotto sotto il palloncino bravo bravo così come se noi mettiamo un pallone dentro l'acqua questo sale su non è che va su indeterminatamente va su fino a che non trova il suo livello di equilibrio di galleggiamento sul fluido stessa identica cosa a un palloncino e in un fluido troppo denso questo è un debunker sotto mentite spoglie guarda c'è l'acchini come sta di faccia mentre io mi parlo gli fa ragionamenti sui forse dice ma perché l'avrò invitato a questo perché l'ho invitato bella domanda è tipo il pesce sulla griglia perché l'aria ho paura che questa serie si fermerà la prima puntata come si è fermata la tua che volevi fare con Cerachini che si è fermata la prima puntata può essere no ma seriamente non hanno bisogno di invitare uno di noi hanno invitato a Silver che sta facendo tutto lui certo darsene su in un fluido meno denso dove l'aria diventerà in equilibrio poi ovviamente più si sale più l'aria è rarefatta a un certo punto come? attenzione attenzione segna segna al al quarantaquattresimo l'aria è più rarefatta ma gliel'ho andata a dire all'amichetto lì come si chiama Marco Aurelio a Ciccio in Grassia a Dave che è l'aria più rarefatta poi con questo come si incontra e concordano come se se questi oggi oggi dicono una cosa domani ne dicono un'altra perché Dave dice diverso secondo me Dave se n'è andato perché perché mi immagino che a questo punto conoscendo Dave sarà esploso con tutte queste rivelazioni contro le cagate che dice lui poi con questo discorso di continuare a chiamare l'atmosfera fluido senza capire di che stanno parlando hanno ritirato fuori il discorso biblico delle acque di sotto delle acque di sopra e quindi praticamente noi siamo pesci perché respiriamo nell'acqua o sopra la cupola c'è acqua cosa assurda no? chiaramente probabilmente scoppia un palloncino scoppia come scoppiano i palloni sonda che si mandano in su cioè quindi accade questo però non è che non sia attratto c'è qualcosa ha scritto il Vassallo ha scritto l'opera l'opera della terra piazza molto ben documentata scientificamente ma di che molto non completamente documentata in nessuna maniera cioè Vassallo ha tirato fuori il discorso che il cielo è fatto di bronzo lui si riferisce alle versioni delle Bibbie più antiche possibili cosa che viene attratto più fortemente e quindi scende giù ma questa caratteristica dei fluidi quindi di spostarsi di non essere solidale di fluire sarà fondamentale poi per capire e per metterli in croce quando parleremo di Coriolini assolutamente fammi recuperare una domanda un attimo passata dice Gabriele conoscete l'ingegner Vassallo ha scritto un'opera sulla terra piatta molto ben documentata scientificamente anche un canale su youtube sì lo conosciamo io lo conosco ho anche cercato di collaborarci purtroppo lui non ha molta simpatia per noi perché noi stiamo anche portando avanti un movimento religioso per cercare di costruire qualcosa di nuovo e questa cosa lui proprio non la manda giù e quindi non riusciamo ad instaurare una collaborazione serena c'è la religione in competizione lui è testimone di Geova oltretutto rinnegato dai testimoni di Geova proprio perché crede in questa in questa cagata quindi ah sì per questo come fa come fa a collaborare con te siete due religiosi di due religioni diverse è vantaggiosa per tutti però sì lo conosciamo e io in realtà stimo anche il suo lavoro poi volevo leggere un'altra domanda che è arrivata Nicola chiede ma quindi è l'elettromagnetismo che determina quella che erroneamente viene chiamata forza di gravità no ma quindi forse tu non hai seguito proprio nulla fino a questo punto cioè perché uno che fa una domanda così è che non ha proprio sembra che non ha proprio seguito nulla questo non lo sappiamo Nicola cioè noi sappiamo solo che c'è una forza che comunque fa muovere gli oggetti dall'alto verso il basso e questo c'è per definizione tu forse ti sei perso la premessa ma tutto quello che si muove si muove perché c'è una forza quindi quello che noi abbiamo detto finora è non possiamo spiegare questa cosa solo con la densità perché la densità è una caratteristica che mi fa disporre gli oggetti in un certo sì gli oggetti in un certo ordine in base alla loro densità appunto ma per osservare un movimento deve esserci una forza quindi la possiamo pure chiamare forza di gravità la possiamo chiamare forza peso l'importante è capire che è un qualcosa che fa cadere quindi la possiamo chiamare forza di gravità ci è consentito chiamarla forza di gravità perché sembrava che non si la parola gravità fosse fosse un insulto non lo so fosse una bestemma si può chiamare ti sutta dicendo ah sei grave ma vabbè gli oggetti dall'alto verso il basso e non è un qualcosa per cui tutte le masse si attraggono fra di loro e questa è la grande menzogna con la quale loro hanno giustificato il sistema chi l'ha detto che tutte cioè se applichi la forma c'è l'esperimento di Cavendish che te lo provano c'è l'esperimento di Cavendish è ovvio che io adesso ho la bottiglia qui e non è che non è che la bottiglia mi si attacca perché se prendi l'equazione di gravitazione universale e fai i calcoli come ha detto lui prima fai i calcoli metti le masse la forza che viene fuori è una cosa ridicola ridicolamente bassa ti rispondiamo con le stesse parole che ha usato Silver prima quando parlava di rotazione se fai i calcoli se fai i calcoli ti accorgi che nessuno ti sta mentendo devi prendere delle masse che perché si fa la bilancia di Cavendish perché appunto mettendo due pesi che sono hanno la stessa massa equilibrano un po' la forza che va c'è sempre il vettore grande di queste masse che va verso il basso e quindi tu però vuoi cercare di mettere delle massone ai due lati ma è tale che forma una coppia che collabora per creare questi piccolissimi vettorini orizzontali è ovvio che l'entità di queste forze sono piccole rispetto a quello che sviluppa una sfera di 12.000 e rotti chilometri di diametro nessuno sostiene che che gli oggetti si debbano attrarre a vista sempre insomma il sistema eleocentrico cioè il fatto che questi ammassi di pietre sarebbero sferici e ruoterebbero uno intorno all'altro in uno spazio vuoto capito cioè la gravità è lo strumento teorico che serve a far funzionare lo spazio il sistema eleocentrico una volta se tu togli quella cade tutto bisogna perché la togli esiste no ma soprattutto se è nel vuoto il tutto cade verso dove semmai si dovrebbero sparpagliare stava dicendo stava dicendo in forma figurativa cade tutto nel senso che che non si regge più in piedi ma non c'è il motivo per il quale la devi togliere quello è il discorso cioè esiste semplicemente capire che funziona in un modo diverso però c'è una forza e non si può parlare solo di densità ecco questo è un po' di quello che stiamo dicendo prego ok per terminare il discorso dell'acqua dell'acqua livello allora i fluidi sono facilmente deformabili ogni fluido acqua compresa assume la forma del contenitore inoltre la materia è una forza fino al raggiungimento di un equilibrio è importante capire le linee di forza i liquidi non sono assolutamente deformabili gli artificieri utilizzano sacchetti di acqua per contenere l'esplosione di determinate quantitativi di esplosivo quando devono entrare a forza in un ambiente cerchiamo di accedere cerchiamo di non fare cioè sta facendo tanto i fluidi sono i gas sono comprimibili i liquidi non sono comprimibili cerchiamo di di sorvolare su sta roba qua perché comunque dice che l'acqua compresa assume la forma del contentore quello è giusto sorvoliamo sui fluidi quello voglio dire forza spero dopo il scontato che si capisca il concetto ad esempio le gocce di acqua sono sferiche perché agiscono forze di tensione superficiali mentre un vortico la so questa la so un'altra volta questo qua un altro che ripeterà la stessa cosa ma poi non sei chiesto perché le gocce io stavo leggendo il commento sotto ah ok io commentavo sul fatto delle gocce sferiche ma guarda un po' le gocce che cadono quindi non sono soggette a sentire la forza peso come fossero in assenza di gravità assumono forma sferica ma guarda un po' ma guarda un po' poi si crea la goccia perché c'è l'atmosfera che gli dai ma nei primi istanti sono sferiche poi è chiaro quando accelerano oltre quando cominciano a sentire l'attrito dell'aria ovviamente si spaghettificano diciamo genera una forma parabolica provate a immaginare un cucchiaino che viene girato dentro un bicchiere quindi l'acqua non avendo una forma sua può tranquillamente diventare una sfera come una goccia o può diventare una convessa una conca conca va insomma quando facciamo un turbine quindi può curvare e se una linea di forza è curva anche l'acqua si disporrà secondo una linea di forza curva e i livelli saranno perciò paralleli a tali linee di forza Archimede l'ha detto 2500 anni fa Archimede Archimede applausi applausi 500 quant'era 300 avanti Cristo quant'era Archimede 300 avanti Cristo credo ha detto esattamente questa cosa qua si attorno al 300 avanti Cristo 250 avanti Cristo si la linea l'acqua curva innanzitutto c'è la gravità che la fa andare verso la terra quindi non è più a forma di 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 blob nel vuoto ma si si appiattisce sulla superficie terrestre e poi ci sono si dispone secondo le linee di forza che possono essere tranquillamente curve perciò su una terra a palla assumerebbe una forma perfettamente sferica l'acqua senza problemi in quel modello lo farebbe e che problema c'è? lo fa no lo farebbe scusate dice Martino chiede ma quindi Silber è favorevole della teoria della terra ci sono allora fermi tutti fermi tutti signori ha lasciato le cinture e vediamo cosa risponde fantastico fantastico ma te quando l'hai vista già? niente cioè tonda no l'ho vista io non l'ho vista tonda sì non sferica ecco allora rispondo a Martino e così in generale spero che rispondiamo un po' tutti io cerco di io conosco abbastanza bene nel modello sfera e conosco minimamente quella che può essere una la fisica ora io non parteggio per la terra sfera per la terra piana io parteggio per la verità e utilizzo le conoscenze che abbiamo che sono di fisica di meccanica classica insomma conoscenze molto elementi qua nessuno parteggia non è che da questo lato qualcuno parteggia se se uno di queste personaggi venisse con una bella dimostrazione con i contro attributi che la terra è a forma di di papera sarebbe una cosa di rilievo il problema è che tutte le tutte le argomentazioni terapiatiste si basano sulle cose che silvera ha smentito fino adesso sono dieci anni che ripetono le stesse cose l'acqua segue sempre il suo livello la forza centrifuga deve far schizzare l'acqua fuori perché il palloncino sale se c'è la gravità sono tutte cose che ripetono dieci anni e che noi cerchiamo di spiegargli usandogli le stesse argomentazioni dicendogli che non è così adesso lo dice silver e giustamente qualcuno dice ma scusa ma sei 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 non sei per la terra piatta e il sospetto viene è giusto che venga perché verrebbe pure a me anche a me viene il sospetto e avanti elementari molto banali per arrivare a qualche cosa di vicino alla realtà capita quindi che di parlare di un modello non è che devi prendere quel modello a spera di cui parlo come io credo in quello ma io lo conosco e lo cito devo citarlo se voglio in qualche modo vederne i punti critici e finora non è altrimenti punti critici che fino ad adesso hai solo hai solo confermato il modello quindi sarebbe il senso di essere qui in questo momento noi con queste prime basi queste prime premesse stiamo cercando di far capire come approfondendo determinati argomenti per chi ha come dire conoscenza della terra piatta può effettivamente vedere come ci sono delle informazioni che stanno girando che non sono precise ma prestano il bianco a chi vuole buttare giù questa conoscenza della terra piatta e non ci fanno nemmeno onore perché se stiamo dicendo cose non vere stiamo stiamo peccando da questo punto di vista quindi è importante capire come funziona quel modello sì ma andando a raggranellare le cose vere che 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 il terapiatismo dice in soldoni che che ti rimane in mano perché quelle appena dette sono tutte le argomentazioni terapiatiste proprio quelle solide quelle che secondo loro sono solide e quindi che facciamo e soprattutto non dobbiamo avere a parer mio non dobbiamo avere un atteggiamento da tifosi da tifoseria da stadio cioè non è questo l'atteggiamento giusto per approfondire e capire un tema lasciamo fare ai tifosi quegli atteggiamenti di o è bianco o è nero se non sei della mia squadra del cuore non ti parlo cerchiamo di avere un atteggiamento critico dire fammi capire spiegami dammi la possibilità di ascoltare ascoltarti e dimostra ma che lo stai a dire ma questi sono tutti tifosi il primo tifoso è quello che sta a fianco a te però le cose ecco la stessa cosa noi dobbiamo avere noi dobbiamo avere la possibilità di parlare quando parliamo con qualcun altro lui ci dovrà ascoltare ma noi dobbiamo anche dire delle cose abbastanza precise perché altrimenti perdiamo la incredibilità allora Enzo torna un attimo alla questione del palloncino non è che il palloncino non sia attratto diciamo non sia attratto dalla forza di gravità adesso lo voglio sentire proprio ripetuto da lui perché vediamo un po' vediamo un po' se l'ha ricepito questa cosa abbia una forza peso e quindi non sia spinto verso il basso ma per altre ragioni essendo immerso in un fluido che è più denso che lo spinge dal basso tende ad andare verso l'alto quindi in quel momento è soggetto ad una forza che è più forte di quella diciamo di gravità o forza peso che lo spinge verso l'alto rispetto a quella che lo spingerebbe verso il basso dico bene Silber esattamente tra l'altro ci sono dei video che si trovano facilmente in rete sul mio blog pure i due palloncini uno pieno di aria e uno pieno di elio che sono attaccati in macchina in automobil sta sul mio blog bravo bravo e quando l'automobile sterza per esempio a sinistra mentre i componenti insomma il conducente piuttosto che i passeggeri vengono sballottati a destra insieme al palloncino pieno di aria vedi il palloncino di elio che va a sinistra c'è una cosa strana da vedere non è il palloncino di elio che va a sinistra è che c'è l'aria all'interno dell'abitacolo che noi non vediamo con gli occhi che va a destra è più densa e quindi si sposta l'aria giusto bravo guardate l'espressione di Shin ma quante volte gliel'abbiamo detto queste cose quando l'espressione di Shin hai detto Shin ah no Shin Gerachini Gerachini Gerachoso si era una battuta la mia quante volte gliel'abbiamo detto le stesse identiche cose quindi è sempre la densità è importante per capire il galleggiamento ma non non mi dice che se ne andrà nel vuoto è scappato via chissà dove quel palloncino no così come una nave lo vola sull'acqua e poi col potenziale elettrico il palloncino di elio se aumenti il potenziale elettrico verso il baso lo abbiamo visto che cazzo vuoi vedere non a pelo d'acqua ma affonda no quel tanto che basta per trovare l'equilibrio palloncino fa la stessa cosa giusto Dave dice ma un palloncino di elio se aumenti il potenziale elettrico va verso il basso lo abbiamo visto lunedì certo perché comunque l'elettromagnetismo poi può cambiare tutto no? ma sì ma sono questioni di forze se tu metti una forza che lo atti anche se ci metto la mia mano lo tiro verso giù va verso il basso è sempre una questione di forza cioè chi impone la forza maggiore vince la forza maggiore vince punto finisce lì però non c'è niente di magico o di strano in tutto questo quindi non è che i nostri occhi perché non vedono l'aria non devono sapere noi non dobbiamo sapere che c'è l'aria l'aria ha un suo peso ha una sua densità il pallelli come l'aria ha un suo peso? l'aria ha un suo peso attenzione ma ogni volta che l'aria ha un peso c'è un Marco Aurelio che soffre che interverrà Marco Aurelio lunedì prossimo domani interverrà per smentire queste 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 menzogne che che i gas hanno un peso che la che l'atmosfera diventa sempre più rarefatta andando verso l'alto come fanno? come fanno? come che sta in silenzio Dave? cioè in questo momento c'è Shin che sta c'è Silver che sta debbuncando a Ceracchini e poi la prossima volta magari arriverà Marco Aurelio a debbuncare Silver che ha debbuncato a Ceracchini che al mercato mio padre compro ha una densità inferiore è per questo che ci serve gonfiare i palloncini con l'elio perché devono stare verso l'alto e non verso il basso basta finito lì quindi diciamo così per via delle caratteristiche dell'aria e dell'elio e qui parliamo di densità l'aria spinge il palloncino verso l'alto certo e quindi l'aria imprime una forza che fa andare il palloncino verso l'alto e quella forza si chiama forza di Archimede ma noi stessi siamo spinti verso l'alto dall'aria solo che ovviamente il nostro volume in aria è pochi grammi quindi non lo sentiamo certo ma anche noi siamo spinti da una forza di Archimede quando entriamo in un altro fluido che si chiama acqua invece lo sentiamo di più certo assolutamente ma non è che non c'è differenza la meccanica è sempre la stessa quindi non ci stupiamo del palloncino che sale Pietro dice il luogo quindi sarebbe assenza di gravità che già mi sembra una contraddizione domanda quindi dopo che io finisco di mangiare un'intera teglia di caponata quella che produco si chiameranno adesso forza di Archimede eh c'è sì dipende perché mi spingerà verso l'alto dipende se stai facendo il chilo di stesso o no verso il lato leggiamo questa nuova domanda il vuoto quindi sarebbe assenza di gravità che c'è mi sembra una contraddizione in sé una domanda è stata misurata con la campana a vuoto cioè con un ambiente senza aria per evitare che l'aria facesse attrito e quindi rallentasse la caduta ma se abbiamo detto che la la forza di gravità è proporzionale alla massa nel dove non c'è la massa che gravità vuoi avere sono in sé beh no no non c'entra questo la gravità può esserci anche nel vuoto cioè però semplicemente non c'è l'aria nel vuoto ecco esatto non è che può c'è c'è possiamo dire che la gravità è un campo c'è il campo di gravità nel senso che se tu ci metti una massa in un punto dello spazio sentirà sentirà questa forza esatto cioè se c'è il vuoto ovviamente quando parlavo che non c'è la massa però se la massa ce la metti sì ma c'entra gravità sì ma questa domanda del vuoto c'entra nel caso qua che affermano che è l'aria che produce la loro forza di gravità sì sì ce ne siamo accorti ma quello che mi fa incazzare a me è che sono le stesse cose che diciamo noi da dici anni capito siccome glielo dice l'amico Silver che non so quanto amico rimarrà ancora per molto perché bisogna pure capire questa cosa adesso vanno bene in questo fotogramma c'è proprio un'espressione così sconsolata desolato gli leggi in pace ma chi me l'ha fatto fare di chiamare questo ma chi me l'ha fatto fare è la prossima volta che racconto io che mi invento questa cosa qui dice un'altra cosa dei terapiatisti non vanno ad argomentazioni vanno a fiducia la stessa cosa che diciamo noi la sta dicendo Silver però io di Silver mi fido quindi lo sto a sentire lo dice Fed no Fed è uno stronzo che è indottrinato dal sistema con le stesse cose con gli stessi esempi identici quindi pensateci pensateci a come vi comportate a come fate le vostre valutazioni senza ascoltare cioè ascoltando le ragioni in base a chi ve le dice può essere ma infatti c'è c'è sempre l'effetto memoria pesce quindi chissà la prossima volta che succede se la dice l'oratore sembra seguire dogmaticamente le tesi della terra sfera no guarda l'oratore inizia inizia a serpeggiare il sospetto ecco ce lo sta presentando ceracchini stiamola ad ascoltare adesso che inizia che ha tirato fuori 4-5 debuncherate sui capisalti del terapiettismo l'oratore non dice le cose buone sono curioso di vedere se se sbrocca l'aggettivo dogmaticamente l'oratore vediamo se se la prende se si triggera sul dogmaticamente ecco esatto Xela dice l'oratore sembra seguire dogmaticamente le tesi della terra sfera no guarda Xela è proprio il contrario casomai noi qui la stiamo mettendo in discussione chi è chi è entrato il papà il padre di geracoso sembra seguire dogmaticamente il contrario casomai noi qui la stiamo mettendo in discussione è ancora l'antica è ancora l'espressione che ha fatto e se ne è scappato stanno succedendo troppe cose quindi un solo passaggio dove avete messo in discussione la fisica l'unico passaggio è che vi siete inventati che l'etere quantistico che la bilancia di Cavendish non funziona così a sentimento ma per il resto è stato ineccepibile rasata al suolo tutta la fanghiglia terapiatista tutta la mercorella di cagate che i terapiatisti dicono sempre la terra sferica quindi hai frainteso assolutamente Dave dice come 19 grammi di peso aumenta il suo peso questo non l'ho capita no neanche noi è la scellingua Paola dice grazie a Eppi della risposta a Scine Silver per il programma alla prossima amici ciao Paola buona serata ciao allora proseguiamo allora proseguiamo che tanto siamo arrivati alla fine quindi nel modello a sfera può curvare senza problemi perciò è un errore dire che l'acqua sta a livello perciò la terra è piatta perché si sta andando per scontato scusami Silver fammi ricapitolare un attimo noi adesso stiamo dicendo a me piace quando Ceracchini ricapitola perché ricapitola e proprio fissa le cose che che Silver ha detto capito è fantastico ricapito voglio sentirlo abbiamo iniziato la puntata parlando di gravità e di densità e abbiamo chiarito alcuni concetti importanti adesso stiamo parlando del fatto che l'acqua sta a livello e questa viene portata come prova della terra piana in verità qui stiamo dicendo che se fosse un globo l'acqua potrebbe anche curvare nel loro modello quindi non è sufficiente dire che l'acqua sta sempre a livello per essere efficaci ok quindi stiamo su questo punto adesso esattamente esattamente perché in quel caso lì nel modello terrasfera il livello ovviamente avrebbe anch'esso una forma sferica più semplicemente quindi l'acqua si curverebbe tranquillamente quindi non lo possiamo dire un mulo un mulo ancora sul potenziale elettrico un mulo sì sì ma fortunatamente abbiamo deciso di fare questo video non sapevo nemmeno che fosse così una relazione questo video una sorpresa questo video un video fantastico ma questo sta fissato con i grammi si me l'ha segnalato Trinità io l'ho suggerito a voi non c'è non c'è capito niente proprio di le spiegazioni che gli vengono date proprio non gli è stato detto che qualsiasi forza entra in gioco è ovvio che ti fa se io schiaccio se io metto sta bottiglia sopra a una bilancia e la schiaccio con la mano è ovvio che la bilancia mi segna un peso maggiore ci sto applicando una forza ma non ha importanza se ci sono altre forze che agiscono quelle in genere che agiscono senza mettere in gioco campi elettrostatici elettromagnetici sono la forza gravitazionale e la forza centrifuga priori che se l'acqua sta a livello allora la terra è piana perché l'acqua sta a livello allora la terra è un globo è la stessa intica cosa perché l'errore qui implicito è definire la forma del livello dare per scontato che il livello abbia un certo tipo di forma però ci dà lo spunto questa frase visto che siamo qui per approfondire non certo per criticare nessuno per approfondire che cosa che quello che invece noi possiamo fare è dimostrare che la terra non sia sferica ma lo facciamo scusa ti interrompo un attimo su questo punto Enzo dice scusa ma dove l'avete vista l'acqua che curva ma nessuno ha visto l'acqua che curva ma infatti l'acqua non curva però questa non è un'argomentazione efficace perché se tu gliela porti ad un sostenitore della sfera lui ti potrebbe dire invece che l'acqua curva solo che è talmente grande la terra che tu non te ne rendi conto è quello che succede ed è quello che succede infatti poi quando prendi palloni sonda e li mandi in alta quota inizi a vedere la curva ed effettivamente su quel modello con quelle forze in gioco eccetera eccetera teoricamente potrebbe pure avere ragione lui capito noi sappiamo che non è così però qui stiamo parlando di argomenti in base a che cosa in base a tutte le cose che ti sono state smontate fino ad ora efficaci e stiamo cercando di limare la comunicazione in modo tale che sia ineccepibile che sia convincente capito questo stiamo cercando di fare e appunto è una comunicazione una comunicazione che deve essere ma lì ma c'è rimasto niente non c'è rimasto niente quello è il discorso il discorso no ma il bello è che parla appunto della comunicazione non è che parla queste sono le nostre prove qua ci sono i nostri studi ecco una relazione a riguardo no la comunicazione perché è un argomento non altro cioè questa gente questa frase qui che sta qui sotto denuncia il fatto che non hanno questa gente non ha capito il concetto che tutto ciò se loro non vedono la curva è assolutamente spiegabile sulla terra sferica se gli oggetti vanno verso il basso e il palloncino va verso l'alto è assolutamente spiegabile sulla terra sferica se l'acqua sta a livello ma può curvare sulla terra sferica è assolutamente spiegabile se l'acqua non schizza se l'acqua non schizza per la rotazione è spiegabile se tu non l'avete se Enzo non lo vede questa cosa qui non capisce che c'è una spiegazione io spero che magari forse ha anche sentito in maniera un po' più distratta quello che abbiamo detto prima se io prendo una goccia d'acqua la goccia è una sfera perché ci sono delle forze che si chiamano forze di tensione dell'acqua che la rendono una sfera così come se io agito l'acqua per esempio con un cucchiaino in un bicchiere quindi io imprimo una forza al cucchiaino ecco che l'acqua si dispone secondo una forma parabolica quindi comunque una curva ma perché lo fa perché l'acqua non ha una forma quindi qualsiasi tipo di contenitore o qualsiasi tipo di forza può creare una forma non dobbiamo stupirci è un fluido può essere manovrato è malleabile non c'è problema si può può diventare è plastico diciamo detto questo quindi cercando di terminare il discorso iniziale e quindi partendo come spunto che non possiamo dire che è un livello l'acqua è un livello e quindi la terra è piatta quello che noi possiamo invece dimostrare è per assurdo allora poniamo il fatto che l'acqua può curvare nel modello terrasferica se curva allora succede che per esempio non posso vedere dietro la curvatura molto banalmente ma noi invece abbiamo la prova provata abbiamo migliaia migliaia di prove ormai che noi riusciamo a vedere dietro quella che è la teorica curvatura e quindi quel modello risulta sbagliato dimostriamo che è assurdo si chiama dimostrazione per assurdo no tutta la logica che hai messo fino a questo punto per dimostrare che le tesi terapiatiste sono fondamentalmente fallaci si applica adesso a questa tesi che stai portando tu perché l'abbiamo spiegato un miliardo di volte se non metti in gioco l'atmosfera l'atmosfera fino a quando spingevi il palloncino verso l'alto c'era ma non la vedevi però se vuoi considerare la rifrazione atmosferica non la consideri la rifrazione atmosferica fa questo gioco di influenzare ciò che puoi vedere o non vedere oltre l'orizzonte quindi è lo stesso e comunque la rifrazione ti sposta l'orizzonte ma a un certo punto le cose le vedi sparire dietro cioè anche se te l'allunga un po' ma le vedi sparire dietro dove sono queste tonnellate di prove che sta dicendo infatti no e perché si fanno perché c'è un rigetto di ciò che è la rifrazione atmosferica di quello che fanno di come effettivamente cambia anche qui fai i calcoli prendi esiste la fisica della rifrazione atmosferica vatti a vedere come funziona capito aspetta c'era c'era Trinità che diceva che dobbiamo accontentarci sì vabbè ma non è che siccome siccome ha detto delle cose giuste adesso ci possiamo accontentare dire e dire vabbè lasciamo passare sta cosa su sull'orizzonte capisci io pongo l'ipotesi che per assurdo sia sferica perché entro in contraddizione allora non può essere sferica questo è lo schema per assurdo e io spero che ci siano dei qualche qualcuno che abbia fatto liceo a scuola comunque abbia fatto proprio le basi di fisica di fisica spero che qualcuno abbia fatto liceo chi lo sta dicendo a Cerachini in primis forse è al pubblico no magari però secondo me il pubblico è già tanto si è fatto le medie ecco se 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 vuole venire qui a a discutere per me non ci sono problemi assolutamente come vedete non è nessuno lo sta lo anzi ha ricevuto più applausi che no però dice cose sbagliate bisogna rimarcarlo che dice cose sbagliate insomma dice che la bilanci Cavendish non funziona senza senza fare alcun tipo di verifica ci sono persone c'è uno che ha fatto una bilancia di Cavendish con con i controcoglioni l'ha presentata a Mectun stando pure attento al fatto di non avere correnti elettriche nel sistema quindi di che parliamo è questa pure quest'altra storia del della dimostrazione per assurdo se tu non metti tutte le cose che ci stanno in gioco è ovvio che non ti torna è ovvio in matematica perché si dimostrano le teorie come dire dimostrazioni per assurdo si fanno anche in matematica che possa in qualche modo dare il suo contributo alla sua cosa della terza quindi quindi niente abbiamo spero finito e che su questo argomento quindi sono tre punti importanti che abbiamo visto facendo un piccolo recap poi andiamo a rispondere un po' a tutti definiamo forza qualsiasi cosa che faccia muovere gli oggetti che gli imprima un'accelerazione quindi una differenza di velocità abbiamo definito il fatto che la densità è una caratteristica della materia ma non impone nessun tipo di movimento quindi determina l'ordine col quale magari si inserisce dentro un fluido ma di sicuro non impone nessun tipo di movimento e poi abbiamo visto come se siamo corretti non possiamo dire che l'acqua a livello dimostra la terra piana ma possiamo dire che per assurdo se l'acqua più basse nel modello terrasfera noi dovremmo non vedere degli oggetti che invece vediamo e quindi poiché noi li vediamo questi oggetti abbiamo tutto il diritto di dire che allora quel modello sferico è errato no non ce l'hai no esatto no no esatto che no i presupposti con i quali dici che non può essere sono sbagliati perché non consideri tutte le cose in gioco ripeto come i terapeutisti non consideravano l'aria per il palloncino che saliva verso l'alto e tu hai rimarcato che c'è l'aria io contraddico io contesto il fatto che tu dici ah vedo oggetti che non potrei vedere ma non stai considerando la rifrazione atmosferica quindi di che parliamo facciamo per esempio possiamo fare l'esempio della Corsica famoso l'esempio della Corsica vista da adesso devo staccare va bene vai grazie per la compagnia ciao 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 20 miglia 190 tutto il diritto di dire che allora quel modello sferico è errato esatto facciamo per esempio possiamo fare l'esempio della Corsica famoso l'esempio della Corsica vista da 20 miglia c'è qualche volta che è assolutamente verificabile che è successo? boh è Fed mi sa allora se ti sento allora vuol dire che è Fed sì noi ci sentiamo va bene la massoneria si impadronisce piratescamente della live cominciamo a parlare di argomenti vi indurrò tramite messaggi subliminari a entrare in una loggia massonica ascoltate il suono della parola massonica massonica oh questo simile personaggio si 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 un vero personaggio una rivelazione praticamente sta facendo un'ignorantissima lezione di fisica cambiando tutti i nomi e spiegando in maniera molto ma molto elementare più o meno come le cose dovrebbero funzionare nella realtà e cerachini che si si concordo si perfettamente d'accordo si sta impiccando da solo un'altra live con questo come ospite è praticamente si è distrutto da solo il suo la sua idea di terra piatta poi ha inanellato un bel po' di cose che adesso si possono rinfacciare quando qualche altro live dirà insomma si è esposto io invece mi aspetto i commenti di Dave nel suo live di lunedì perché domani domani sera vedremo sentiremo che cosa dirà starà schiumando probabilmente una debunkata di questa live no ma soprattutto mi è piaciuta l'idea starà infilando le dita nella corrente per recuperare il potenziale elettrico no ma soprattutto mi è piaciuta l'idea io credo in una terra che è rotonda ma non sferica cioè come azimutale come fai a dire che la terra è azimutale ti hai appena dichiarato che tutto ciò che è stato spiegato fino ad ora ai terrapiattisti di fisica di scienza di qualsiasi altra cosa è giusta ma ancora state con quest'idea di rotondità ma non sfericità che che poi lui era quello che sosteneva che i disegni della terra rotonda che galleggia nello spazio sono cavolate ma allora se è rotonda da qualche parte dovrà galleggiare non era lui che diceva queste immagini fanno solo del male alla terra piatta ma come si può pensare non diceva così dunque finiamo finiamo sempre con il discorso che la fisica la fisica torna e l'unica cosa alla quale si aggrappano sono queste questi avvistamenti a distanza guardando al livello del mare di oggetti che stanno lontani ma che in realtà funzionano perfettamente se vai a considerare la riferazione atmosferica ma poi i fenomeni passeggeri comunque che a volte ci sono a volte si vede di più a volte si vede di meno quindi non ti viene il dubbio che ci sia qualcosa cioè non è che se tu guardi verso la corsica la vedi sempre uguale a tutte le ore qualche volta la vedi più alta qualche volta la vedi solo il cocuzzolo qualche volta non la vedi cioè tu che fai tanto il fisico che ti affidi la fisica questo non è un problema per il metodo scientifico se è una cosa che non puoi riproporre per un esperimento non ripetibile cioè te ne rendi conto da solo che va contro sarà forse che dipende dal fatto che c'è una atmosfera tra te lo stai guardando punto cioè c'è un qualcosa che non stai prendendo in considerazione cioè tutte le domande che ti sei fatto finora su questo argomento non te le fai cioè perché questo tilt vabbè comunque personaggio interessante vediamo tutta dovrebbe spuntare soltanto di pochi metri la sommità del monte cinto che è alto 2700 metri e rotti quindi se tu invece vedi tutta la corsica non la vedi tutta oltretutto l'esempio quello che fa pure Favari nelle sue nelle sue uscite non sono isole che si vede che si vede la corsica non sono isole non è sono due pette della stessa corsica c'è l'acqua in mezzo perché perché non vedi tutta la corsica ma vedi appunto la parte bassa che è coperta è coperta dalla curvatura quindi tutte tutte queste cose qui sono state verificate riverificate ho perso il calcolo il conto di tutte le cose che sono state verificate con i simulatori con i calcolatori d'orizzonte ma non accettano queste cose non c'è niente da fare da 20 miglia a 2 metri di altezza di osservazione matematicamente su una sfera quello è impossibile pure questo concetto di matematicamente la matematica serve alla fisica per per trovare dei risultati ma il fenomeno fisico non è matematica l'atmosfera cambia cambia di temperatura l'atmosfera cambia di densità la rifrazione dipende da queste cose qui e gli oggetti che vedi si alzano e si abbassano in base a come cambia la temperatura quindi non puoi buttarci dentro una formula matematica senza tener conto di tutti i parametri che ci sono in gioco esatto perché stando a due metri d'altezza ti becchi tutto ti becchi tutto lo scambio termico tra la superficie e gli strati primi i primi strati d'aria e quindi c'hai tutti i tipi di miraggi possibili miraggi inferiori miraggi superiori fate morgana e loro pensano che la rifrazione atmosferica sia quello quelli sono solo fenomeni particolari la rifrazione siccome l'atmosfera cambia di densità salendo verso l'alto dipende proprio da questa variazione di densità lo vediamo negli acquari dove ci andiamo a mettere il sale o lo zucchero gli cambiamo il grado di densità andando verso l'alto e vediamo che la luce dei laser o qualsiasi tipo di luce curva quindi stiamo sempre sto cercando una foto poi te la metto in condivisione però c'è il problema come ci ricorda Dave che poi loro ci aggiungono la rifrazione eh ok la rifrazione ha dei limiti e poi quando uno vi dice eh ma la rifrazione va bene guarda prendi carta e penne e calcolamela eh e te la posso calcolare non te lo calcolo a mano ti ho fatto un calcolatore per farlo vai sulla pagina rifrazione atmosferica ci sono tutte le belle formulette e te la calcoli calcoli ma di quanto si dovrebbe alzare un oggetto visto che tu stai affermando che la rifrazione può alzare un oggetto di tot ci sono già tutti i calcolatori che fanno sta roba qua allora lui che parla che l'acqua può curvare questo è un esempio qui come lo spiega qua questo è uno screenshot che ho preso da un video di di scedir qui come la mette l'acqua allora sta curvando o no l'acqua visto che può curvare questa non è una prova che sta curvando visto che lo può fare chilometri allora me lo dimostri con i numeri e nessuno è in grado di farlo vieni in live la prossima volta facciamo ti faccio le dimostrazioni ti faccio vedere come funziona che ti devo dire di più mi sentite? si si siete rimasti in silenzio sembrava che sto mancava l'eco perché la rifrazione siamo pieni di calcolatori con la rifrazione calcolatori con i miraggi che spiegano perfettamente tutti i fenomeni e dimostrano come gli oggetti si alzano e si abbassano è vero che esiste mica nessuno nega la rifrazione noi torniamo poi sempre al discorso che noi parliamo di rifrazione spiegandogli che cos'è come funziona come avviene e loro poi parlano di magifrazione perché se guardiamo un oggetto lontano noi lo vediamo completo quello che non ci appare è che è l'umidità è la foschia è questo che lo schiaccia in base c'è un qualche cosa che fisicamente è impossibile se io guardo un oggetto in profondità non posso non vedere la parte in basso e loro per dimostrare questo poi che fanno tornano all'esperimento della videocamera messa in mezzo all'erba con la persona che cammina nel campo e si allontana grazie che non vedi la parte in basso della persona è coperta dall'erba non penso che Silver faccia questa cosa qui però il problema è un altro tu mi dici che la rifrazione ha dei limiti dimostrami tu numeri alla mano dove stanno questi limiti perché perché io lo faccio perché io ho fatto un calcolatore per calcolare di quanto si alza e si abbassa un oggetto alla distanza con la rifrazione atmosferica l'ho fatto perché le formule sono strarci note e questo è il discorso torniamo sempre stesso al discorso il discorso identico a quello che all'inizio con con Cavendish tu l'hai fatto l'hai fatti i calcoli li sai quali sono i calcoli da fare oppure stai rigettando perché non sai probabilmente nemmeno come funziona la rifrazione io penso la seconda questi non sanno come funziona non solo la rifrazione ma buona parte di ciò che dicono c'è un bellissimo caso che è quello della torre di Blackpool fatto da un fotografo professionista che si chiama Cidley si utilizza la torre come i casi migliori per verificare come funziona sono quelli dove hai un oggetto intermedio tra l'osservatore e un'altra cosa ancora più distante ad esempio nel caso di Cidley Cidley stava su una collina su una collina inglese non so se del Galles e ha la torre di Blackpool come elemento di misura e poi più distante all'isola di Mann basta utilizzare questi questo oggetto di misura per capire se l'isola di Mann è più bassa o più alta ora Cidley sta a 350 metri sul livello del mare la torre di la torre di Blackpool è alta 170 170 rotti metri sul livello del mare e l'isola di Mann arriva a 600 metri sul livello del mare prendi la foto e vedi che le cime più alte dell'isola di Mann sono più in basso sono più in basso della punta estrema della torre come funziona può essere che stiamo su una terra piana ma se io sto a 350 metri sul livello del mare come è possibile che ho la torre di Liverpool in mezzo e vedo una cima che sta a 600 e rotti metri sul livello del mare sta più in basso da queste cose si smonta proprio in maniera inesorabile la terra infatti molti molti terapiattisti inglesi con questo esempio qua hanno smesso completamente di creare la terra piatta ma questi si attaccano agli amici di Dave che si mettono sopra la riva del mare a 2 metri a 50 centimetri da spello dell'acqua che vogliono vedere le cose sulla brandina capisco sulla brandina ma 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 la rompa da matti ha dei limiti e poi quando uno vi dice eh ma la rifrazione va bene guarda prendi carta e penne e calcolamela calcolamela ma di quanto si dovrebbe alzare un oggetto visto che tu stai affermando che la rifrazione può alzare un oggetto di tot chilometri allora me lo dimostri con il tot chilometri ma quali chilometri ma che dici ma quando mai questo dimostra che non ha alcuna alcuna idea di come funziona se se io sto guardando un oggetto che sta a 60 chilometri di distanza che mi si alza di 60 metri che cos'è cioè la luce ha fatto una piega ridicola di frazioni di grado ci può stare che la luce curvi di frazioni di grado arriva al mio occhio facendomi sembrare che l'oggetto sia alzato di 60 metri certo che può essere ma non chilometri chilometri poi c'è anche il fatto che più sei distante più la rifrazione la rifrazione alza gli oggetti infatti le osservazioni più distanti da dove si fanno da un picco di montagna che guarda un altro picco di montagna che sta a 150 chilometri ma è ovvio che lì non sposti di metri ma sposti di 100 metri perché c'è più atmosfera tra te che stai osservando e quel picco e quindi la luce ha più atmosfera con rifrazione che incontra prima di arrivare al tuo occhio parole dette un po' così senza senza un riferimento pratico senza senza un esempio si è sciupato nel finale si 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 i numeri e nessuno è in grado di farlo perché la rifrazione è vero che esiste mica nessuno nega la rifrazione certo ma ha dei limiti sì poi abbiamo visto tante volte con Dave infatti la Sicilia non la vedi dalla Liguria vedi la Corsica ma la Sicilia non ce la fai ha dei limiti ma poi se gli oggetti poi li vedi tagliati perché li vedi tagliati? beh da dietro la curva a massimo ti fa ti può ingrandire gli oggetti questo sì gli oggetti in lontananza lo stesso sole viene ingrandito per effetto di rifrazione ma sai cosa dipende ci sono l'aria si parla noi parliamo comunemente di rifrazione ma sappiamo che questa rifrazione nell'atmosfera avviene per differenza di densità dell'aria di carico di umidità e di tutti questi fattori più o meno messi assieme quindi può capitare effettivamente può capitare che un oggetto luminoso per dire comunque un raggio di luce perché sono un oggetto luminoso qualsiasi cosa che vediamo è luce è luce sì se io vedo se io vedo un'isola a distanza quella è luce che arriva sono fotoni che arriva ai miei occhi non è che devo vedere la luce la lampadina se tu elimini qualsiasi fonte luminosa non vedi nulla ciò che arriva ai miei occhi è luce di rimbalzo che sono fotoni di rimbalzo che arrivano ai miei occhi si è perso in un bicchiere d'acqua nel finale se in qualche modo rimbalzare un pochettino e quindi fare un pochettino di curva perché in quel momento in quella zona in quel preciso luogo le condizioni lo permettono ma uno non è uno standard esatto esatto quello che ti ho detto prima sì ma c'è questi non capiscono che esiste una rifrazione se togliamo gli effetti di temperatura umidità la rifrazione atmosferica c'è sempre ed è praticamente quello che si usa la rifrazione come si chiama non mi viene il termine però è la rifrazione che dipende dal fatto che l'atmosfera ha una densità variabile sempre c'è sempre la densità variabile stando al livello del mare c'è una densità se andiamo saliamo di quota la densità si abbassa quella c'è sempre poi ci sono casi in cui questa densità aumenta perché ci sono scambi termici è perché c'è anche un'unità ci sono anche questi fattori che entrano in gioco però la rifrazione c'è sempre gli oggetti dovuti alla sola rifrazione dovuta alla variazione di densità alzano sempre gli oggetti nelle giornate più chiare più terze che vuoi metterci e vuoi trascurare la temperatura la rifrazione c'è sempre gli oggetti li alza sempre non è che devi stare a vedere ci sono le perturbazioni no anche se se vedi cristallino quello che sta in lontananza la rifrazione c'è sempre è un concetto che non gli ci entra in testa a queste qui non c'è niente da fare e due ha comunque dei limiti questa cosa e di nuovo quali sono sti limiti perché continuare a dire che ha dei limiti non significa nulla quando tu parli di limiti devi mettere la pezza d'appoggio e dire vedi hai dei limiti e quindi oltre 50 metri su una distanza di 100 km non può andare e lì ti dico no metti i dati i dati di una giornata che ha che ha questa temperatura qui questo gradiente termine qui e questa pressione qui e vedrai che questo fenomeno può esistere ma più che altro guarda con Dave abbiamo visto da molti filmati molto materiale che più che altro è la linea dell'orizzonte che si abbassa in determinate condizioni e quindi scopre maggiormente di più o di meno quello che c'è dietro in base alle condizioni atmosferiche quindi noi vediamo questo orizzonte apparente che si abbassa che non è l'orizzonte geometrico ovviamente che non esiste lo vediamo che si abbassa o si alza in base alle condizioni ma non è che da dietro la roba va verso l'alto poi tu dici ma puoi avere un riflesso che viene rimbalzato all'atmosfera compresa il classico olandese volante la nave che tu la guardi e sta alzata è proprio alzata rispetto all'orizzonte che dovrebbe essere certo ma quello è un miraggio un miraggio inferiore esatto ma i miraggi sono quello non è un miraggio inferiore no fra i due è superiore o no? no non è proprio un miraggio no olandese volante è l'ubing è praticamente l'oggetto che è stato spostato verso l'alto quando si parla di miraggi vuol dire che c'è una riflessione c'è una riflessione quindi c'è uno specchiamento verso il basso c'è uno specchiamento verso l'alto c'è la la fata morgana che è un mix di specchiature è una cosa dinamica la la fata morgana l'olandese volante quella cosa lì non è un non è rifrazione non è miraggio perché non ci sono specchiature sono solo effetti di effetti di rifrazione particolari niente di che però ripeto ha comunque dei limiti ha comunque dei limiti non può essere che guarda 12 chilometri sotto la terra no è questo il punto bravissimo questa ma loro sostengono questo cioè loro sostengono che la rifrazione ti possa alzare pure di 2 chilometri e 6 la Corsica ma chi sparano i numeri sparano i numeri capito e tu gli chiedi se qualcuno gli dice questo ok fammi vedere i calcoli ti credo però mi devi fare vedere i calcoli se no stai facendo chiacchiere da par i calcoli stanno nel calcolatore nel calcolatore stanno nei simulatori ci sono le formule e il software fa i calcoli per me perché non è che mi posso mettere a fare i calcoli per ogni singolo caso perché ci sono diversi parametri che ci vanno come se se tu programmi se tu devi fare un calcolo complesso e programmi una calcolatrice scientifica per fare quel calcolo per te se scrivi un programmino non è che non fai calcoli prepari un programma che fa quelle cose in maniera tale che cambi cambi i valori e ti dà il risultato corrispettivo in base al programma che hai realizzato come il simulatore che sto facendo adesso ci sono ci sono i calcoli quindi non è che ti devo fare il calcolo penna su carta insomma allora prendendo l'esempio di questo messaggio in sovrimpressione le isole ponziane viste dal Lido di Fondi Camurri e Var perché nessuno di questi se ne va sul lungomare che so Marina di Ragusa zone verso Agrigento perché non mi vanno a individuare la Malta ma l'abbiamo fatto l'abbiamo fatte sì sì lo so perfettamente che noi l'abbiamo fatto mille volte sono questi che tornano a fare gli stessi esempi con le stesse condizioni climatiche che cambino un pochino i loro i loro orizzonti no non li cambiano non vuoi che cambino per questo fino adesso è andato bene sulle cose semplici la rifrazione è un qualche cosa di leggermente più complesso e si è completamente impantanato ma per me non ci sono problemi se viene se lo contattiamo se ci facciamo uno scambio gli faccio vedere i calcoli gli faccio vedere gli faccio vedere basta vedere come in un in una condizione di densità variabile e abbiamo detto che l'atmosfera ha una densità variabile a prescindere da temperatura e pressione temperatura e umidità e quindi la rifrazione c'è sempre quindi la luce curverà sempre anche se non ha fenomeni particolari di miraggio o turbolenza o quant'altro i calcoli ti fanno tutto lo sappiamo no no ma mi deve tanto se vanno a vedere le tabelle delle che si usano per fare i calcoli della rifrazione non ci sta dentro le tabelle non ci stanno dentro neanche lontanamente ma quali tabelle perché non può esistere una curva un raggio di luce che può fare quella curva quale curva quale curva se sto guardando un oggetto a 60 chilometri e l'oggetto si alza di 30 metri 40 metri di che curva stiamo parlando facciamo il calco 60 chilometri è esposto esposto l'oggetto di 30 40 metri che curva è ma di che parliamo cioè ci stiamo perdendo proprio in un bicchiere d'acqua impossibile questi io ho notato una cosa fanno come come fanno difficoltà tra velocità tangenziale e velocità angolare fanno difficoltà a capire l'angolo di piega della luce e spostamento spostamento dell'oggetto alla distanza più l'oggetto è distante e più l'angolo di piega della curva è ridicolo certo se tu se un oggetto sta a 5 metri da me lo voglio alzare di 60 metri è chiaro l'angolo lì cacchio wow mi ha fatto una piega assurda ma non si rendono conto delle grandezze in gioco e invitolo per me può pure venire non so non so l'abbiamo detto più volte non so dove trovarlo questo qui se lo troviamo se vuole se vede questa live e vuole venire non ci sono problemi abbiamo appena fatto le tre ore di live io cito sempre il canigù visto da Marsiglia lo cito perché sai perché lo cito quello intanto è un po' più distante rispetto la Corsica ma poi perché non è è una foto che non è fatta da un terapeutista ed è una foto che si fa una certa che è stata fatta da una certa altezza per cui non c'è rifrazione chi l'ha detto oddio oddio fermi tutti come non c'è rifrazione ma come non c'è rifrazione ma certo che c'è rifrazione ma certo che c'è rifrazione ma che scherziamo dai ecco questi sono queste sono le cose in cui si intoppano si intoppano in queste cose qui non non ci si non riescono a svincolarsi non riescono a venirne fuori da ste cose qui i calcoli ci sono le 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 formule ci sono le le formule dipendono da gradiente da gradiente termico da temperatura e pressione queste cose cambiano aia aia rick ci sei e torna la massoneria a prendere il controllo della live riconcentratevi sulla parola massoneria massoneria che voce dalla notte lo faccio tutto in smr allora qua in italia è l'una abbiamo già fatto tre ore di live e silver ha semi debuncato tutto quello che c'era coso a fina d'ora ha detto vediamo la sua espressione preoccupata pensierosa di questo frame che sta dicendo ma siamo sicuri che ho fatto bene a invitare sta persona ma mi sa che ma mi sa che mi sono stretto un po' troppo la corda attorno al collo eh sì io due tre cose ho preso nota due tre cose che ha detto che non potrà più usare saranno soddisfazioni ma ce ne sono penso anche più di due o tre cose che non potrà più usare proprio ci vorrà una faccia da culo di quelle incredibili per poi andarle a contestare o a dire no vabbè ma che c'entra eh no niente niente eh ci vuole ci vuole un po' di dignità per capire che ha fatto il passo più lungo della gamba e per fare pubblicità al suo culto ha tirato dentro una persona che un minimo di scienza la conosce anche se con grandi lacune però già quel minimo è stato sufficiente per fargli notare che le cose non vanno come dice lui il problema il solito problema è quello dei cinque minuti d'attenzione che tutto quello che ha detto prima chi ha seguito la live in originale si sono già dimenticati tutto di quando gli scrivevano ma lui è un terrasferista visto quando passavano i messaggi quello è già tutto dimenticato con queste ultime dichiarazioni ora siamo cioè è l'ultima cosa che conta capito tutto quello che ha detto prima per chi l'ha ascoltato lì in live non conta più niente adesso gli ha dato la conferma su questa magifrazione come la chiami te c'è la live basta basta spiegarla e salvarla e poi all'occorrenza andare a prendere sì 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 è rientrato non l'abbiamo cagato andare a prendere il il minutaggio giusto e andargielo a spalmare in faccia vabbè faremo un po' i com'è che si diceva quella canzone spalman gliela spalmeremo in faccia non possiamo fare altrimenti gli dimostreremo che lui stesso ignora ciò che lui stesso ha affermato e questo è il discorso ma noi abbiamo io penso che ecco 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 ultimamente ho internet ballerino non so perché io temevo per me stasera invece che non avevo avuti dei problemi perché qua in Toscana c'è stato brutto tempo sono un paio di giorni che la linea va e viene pensavo di averli io stasera problemi invece no ce l'ho io stavo facendo due tre considerazioni sul personaggio intanto sì sì no ma si si perde si perde in un bicchiere d'acqua fino a quando ci arrivava con le conoscenze con le poche conoscenze che ha di fisica ha fatto dei ragionamenti adesso che la questione si questa roba qui non si studia a scuola diciamo non è che a scuola si studia la rifrazione si studia la rifrazione di quella di superficie sì di Newton dai il prisma queste cose qui ma non sì sì cioè te lo dicono che succede ma sì sì c'è la formula di Snell che praticamente ho il prisma di vetro mi passa all'aria come cambia la come cambia la pendenza della luce ecco però l'atmosfera è un attimino un po' più complessa l'atmosfera ha una ha un gradiente di densità non puoi applicare Snell all'atmosfera a secco l'unica cosa che puoi fare puoi andare puoi cercare di avvicinarti facendo le stratificazioni però non è quello il sistema che viene utilizzato si utilizzano dei parametri legati a a quelli che sono gli elementi che vanno a influenzare la rifrazione atmosferica come dicevo gradiente termico temperatura e pressione che ti fanno cambiare la densità dell'aria quindi ci perdiamo in un bicchiere d'acqua quando quando vengono trattate queste cose e purtroppo c'è il lato particolare della rifrazione che quando diventa molto particolare quando ci sono fenomeni speciali che sono quelli legati ai miraggi sembra che c'è poi quando i miraggi non ce li hai sembra che non c'è ma in realtà c'è sempre intanto che hai un gradiente hai una variazione di densità hai sempre rifrazione e la rifrazione ti fa piegare sempre la luce quindi vediamo un po' che vuole fare visto qui se vuole venire da me ovviamente non ho problemi a dialogare con una persona che dimostra di avere una capacità di ragionamento che non è comune al terapia attestativo ecco come sei messo con orari perché già abbiamo raggiunto le tre ore di live possiamo fare altri cinque minuti e poi chiudiamo non so cos'altro c'è da dire ma non c'è la possibilità di avere problemi di rifrazione dovrebbero esserci non ricordo bene nove chilometri dalle altezze insomma di che cosa stiamo parlando la rifrazione c'è davidice ma la nave volante è sul piano marino è un oggetto reale certo assolutamente sì ma è quello che ho detto poi c'è questa idea del oggetto reale oggetto non reale come se come se l'oggetto rifratto non è un oggetto reale tutto ciò che arriva ai nostri occhi è informazione comuniosa proveniente da un oggetto reale non è che se io vedo un oggetto quello non è reale anche se ha piegato la luce ha piegato c'è tutte queste cose senza senso che hanno in testa questi pellegrini qua ci sono determinate condizioni speciali per cui qualcosa può passare l'orizzonte ma ripeto non sono condizioni speciali sempre molto limitatamente stiamo parlando che se tu hai 5 km di visuale facile magari l'oggetto è a 6 o 7 km ma non di più cioè capito ma devono essere condizioni molto speciali no 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 massimo ma lo sappiamo lo sappiamo che la nave è reale non stiamo dicendo che la nave è un'immagine che rimbalza da dietro l'orizzonte geometrico lo sappiamo benissimo la nave è reale semplicemente sembra volare perché si crea un miraggio inferiore ho fatto l'esempio con la bacinella col semplice snell praticamente l'acqua l'informazione luminosa riesce a scavalcare un ostacolo perché appunto l'informazione luminosa piega passando da un oggetto meno denso a un oggetto più denso quindi sì avevo la monetina la monetina è reale però riesce a scavalcare l'oggetto perché appunto c'è la rifrazione sto concetto se lo vedo è reale altrimenti se c'è l'ostacolo è irreale non ha alcun senso non capiscono proprio il senso di tutto il concetto non c'è niente da fare e quindi si specchia praticamente la parte più bassa dell'immagine ma lo sappiamo Enzo dice ma qual è l'importanza di parlare della gravità se teoria era e teoria rimasta perché dobbiamo padroneggiare bene gli argomenti ancora questa storia penso che l'abbiamo veramente esaurito sì 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 quante volte bisogna spiegarle queste cose ma perché tu pensi che pensi che questi qui hanno ascoltato qualche cosa ma che ancora questi non capiscono la differenza da vocabolario allora silber se se ti capita di ascoltare questa live se qualcuno mi dà i contatti per raggiungerti ti prego incontriamoci e ti spiego come funziona la rifrazione non cambia non è che se stai a tre chilometri di tre chilometri di altezza la rifrazione non c'è la rifrazione c'è sempre perché la rifrazione dipende dalla densità dell'aria e a qualsiasi altezza certo se sali di quota la densità varia un po' di meno infatti gli effetti rifrattivi ce l'hai molto di più se stai li vediamo se stai sul livello del mare c'hai delle variazioni anche dovute a cambi termici molto pesanti ma se stai in quota non è che la rifrazione non la vedi se stai nell'esempio di Cicli stai a 300 metri sul livello del mare 350 cacchio se la rifrazione conta lì la rifrazione conta e come non è che scompare e lì non hai effetti particolari di miraggi di che parliamo non ci siamo proprio sulla rifrazione questo è veramente un argomento in cui fallite proprio vediamo vediamo se questo invito è raccolto vediamo se è raggiungibile questa persona in qualche maniera e se è disponibile a confrontarsi lui dice che nessuno gli fa i calcoli e io i calcoli glieli posso fare speriamo che accetti l'invito che la segnalazione in qualche modo gli giunca perché sembra premettere un buon confronto produttivo sembrerebbe da una persona quantomeno aperta al dialogo rispetto anche a questi personaggi a cui siamo fino ad ora abituati ad avere a che fare avercene di silver cioè se vuoi mettere parlare con silver o parlare con quello che ti dice le 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 onde elettriche come se fosse antane cioè non scherziamo proprio un altro campionato dai è proprio sì siamo siamo a partite di calcio della parrocchia con con la serie la serie C non voglio dire la serie A ma la serie C stiamo lì va bene dai abbiamo scoperto una persona nuova stasera ne ho alzato piena speriamo sono curioso di sentirlo sull'astronomia se faranno qualche altra puntata perché dubito che ceracchini a me se queste persone dimostrano di ragionare ti ascoltano e esce fuori un discorso costruttivo a me va bene a me va benissimo il problema è che non esiste questa roba qui a me ti viene il dev di turno che ti dice fammila parallasse fammila parallasse cioè capisci che proprio uno è tonto non è che ci puoi fare nulla non è che c'è qualcosa da salvare questo qui se gli si spiega come funziona la rifrazione atmosferica forse forse la capisce forse gli è d'aiuto ma per il resto magari io gliela spieghiamo a lui e lui la rispiega a ceracchini forse forse dobbiamo utilizzare questi canali qui non lo so dai vediamo vediamo se si fa vivo va bene qui sotto poi sotto al video trovo anche tutti i riferimenti per trovare il canale telegram e tutto quanto quindi noi non siamo irraggiungibili volevo dire sì ma a vedere se gli diranno come pensa qualcun altro che ci voleva invitare ma non ha trovato modo per invitarci siamo abbastanza trovabili ecco o come un certo personaggio che si invita le persone ma soltanto se gli dai ragione sì sì vabbè sappiamo sappiamo i soggetti dai va bene vediamo se 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 il tizio è interessato se lo riusciamo a contattare bene se no amen va bene intanto intanto sappiamo che già c'è un un terapiatista diverso dal dalla massa qualcuno che bene o male un minimo di scienza la la conosce poi vediamo un invito è stato fatto si parla di di un eventuale proficuo scambio di opinioni non si tratterà certo di un'aggressione o altro perché qua non ne abbiamo mai fatte non ci abbiamo uno che ti dice ah il girobussola funziona in base al magnetismo cioè non ci abbiamo sta roba qui no no assolutamente non ci abbiamo quella a sinistra abbiamo quello che sta a destra ecco qui al massimo si interrompe un attimo il discorso e con la massima pacatezza si spiega come funziona la cosa poi se la vogliono accettare la accertano se no possono continuare a dire quello che vogliono va bene va bene ragazzi buonanotte grazie a chi ci ha seguito grazie a tutti come al solito gli irriducibili delle ore piccole il loggione il loggione che ci ha seguito il loggione speriamo speriamo che si accende che si accende una luce da qualche parte in qualche cervello si possa fare finalmente un incontro con qualcuno che forse ci capisce qualche cosa mettiamola così va bene grazie a tutti ci vediamo alla prossima sigla grazie a tutti buonanotte ciao 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 ci ha abbandonato così sì e tra l'altro la live è ancora in corso ah sì invece di staccare la live si è staccato lui fantastico ma stiamo qui appesi per l'eternità faremo le particelle dell'acqualete c'è nessuno aspetta provo a scriverglielo no vabbè basta che adesso ci stacchiamo noi e si stacca anche la live eh non credo non lo so non lo so non lo so sì 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 se lasciamo lo studio si stacca la live perché non rimane più nessuno va bene allora buonanotte tutti chi c'è 19 ancora buonanotte aspetta rimando la sigla aspetta aspetta rimando la sigla pronti 3 2 1 buonanotte notte perché non è la notte che c'è Grazie a tutti